Possiamo anche iniziare. Allora, eccellentissimi rappresentanti di imprese, delle istituzioni governative, regionali, comunali, dei sindacati, degli istituti scolastici e partecipanti al primo congresso a Sesto San Giovanni sugli stati generali, impresa, lavoro e sindacati giovani. Come Presidente della consulta dell'impresa e a nome anche della consulta diamo il benvenuto e nel ringraziarvi vi invito cortesemente ad alzarvi per condividere insieme l'inno nazionale. Grazie. 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 Bene, diamo la parola al sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Lo ringrazio personalmente per la delega che un anno fa mi ha dato per la consulta dell'impresa e con oggi concludiamo un anno di attività. Prego, Roberto Di Stefano. Grazie. Grazie, grazie Presidente e grazie per questo momento di confronto. Do il benvenuto, ringrazio e saluto i ragazzi della scuola, i sindacati, tutti gli stakeholder, le imprese, i nostri consiglieri assessori, tutte le realtà del territorio, anche da fuori territorio, che partecipano a questa prima edizione degli Stati Generali proprio per spiegare un po' quello che abbiamo fatto in questi anni e quello che vogliamo fare nei prossimi anni. Quella che è un po' la progettazione di un territorio che abbiamo avviato nel 2017 con l'inizio del primo mandato, mettendo in ordine un po' tutti i tasselli e dando un po' di sviluppo, considerando che abbiamo sul nostro territorio le aree di smesse più grosse di tutta Europa che devono essere rigenerate. Essere territorialmente tra la funzionale Milano e la bellissima Monza non è facile se uno non è in grado di ritagliarsi una certa identità. Noi ci siamo riusciti nel primo mandato rifacendo completamente il piano di governo del territorio, in maniché uno strumento importante per attrarre investimenti, sbloccare situazioni, sia per quanto riguarda la rigenerazione urbana, quindi delle strutture già presenti sul territorio, sia quelli che erano i progetti di riqualificazione. E da qui siamo partiti, consideriamo che ad oggi siamo riusciti a far avviare cantieri che aspettavamo da oltre vent'anni. Il Sesto San Giovanni sappiamo benissimo che negli anni 90 ha visto la chiusura della falc, delle fabbriche, con una conseguenza pesante per il territorio, la conseguenza di da un lato demolire la vecchia fabbrica, dall'altro avviare le procedure di bonifica che sono molto pesanti, pesanti per il comune, pesanti anche dal punto di vista finanziario per le proprietà, per l'impresa privata che fanno poi lievitare i costi, si sta andando avanti per step, però era importante riuscire ad avviare questo percorso e parallelamente studiare anche che tipologia di identità dare al nostro territorio, perché la città è una città medaglia d'oro al valore militare per la resistenza, dove negli anni del dopoguerra, anzi durante il periodo della seconda guerra mondiale, forte è stata la presenza massiccia della classe operaia all'interno del nostro territorio, sindacale che ha consentito da un lato la liberazione e dall'altro la continuità di quella che era un'attività dell'acciaieria e della siderurgia che ha usufruito non solo l'Italia ma tutta l'Europa, quindi la nostra sfida è stata quella di rimanere, ricordarci e onorare il passato, ma definire un'identità per il futuro, perché di passato non si sopravvive, parliamoci chiaramente, e anche il potenziale del nostro territorio è un potenziale fortissimo, così insieme, creando una sinergia pubblico-privato, e ringraziamo anche Regione Lombardia, ma anche il governo che partecipa nella realizzazione di quello che è il motore, che sviluppa poi al centro delle aree Falc tutto il progetto, sarà la città della ricerca e della salute. L'investimento più importante che oggi sta portando avanti Regione Lombardia dal punto di vista finanziario è consentitemi di dire anche una bellissima risposta dopo il periodo pandemico che la Lombardia, tutta l'Italia, ma soprattutto la Lombardia, ha vissuto. Noi sul nostro territorio già abbiamo due ospedali, un ospedale pubblico, un ospedale privato, con la città della ricerca e della salute ospiteremo anche il Besta, l'Istituto dei Tumori, e c'è un accordo anche per la realizzazione di un terzo ospedale all'interno dell'area, che è del gruppo San Donato. Quindi stiamo attraendo delle eccellenze, degli IRCS dal punto di vista sanitario, grazie a un investimento importante di Regione Lombardia, quindi del pubblico che coinvolge anche il privato. Si parla di circa 4 miliardi di investimenti tra opere primarie e secondarie sul territorio delle aree Falc, e come istituzioni noi ci siamo subito mossi anche per gli oneri a scomputo, che sono molto importanti, serviranno anche per ricongiungere le due parti di territorio, in quanto le aree Falc rappresentano un terzo del territorio sestese. La stazione a ponte, disegnata da Renzo Piano, è ben avviata, a maggio-giugno dovremo iniziare la demolizione della vecchia stazione, la nuova è quasi ultimata, ci saranno le due piazze di collegamento completamente rifatte, il sottopasso della metropolitana da Sesto FS fino alla nuova piazza. Sono stati già rilasciati i permessi a costruire per la realizzazione della nuova sede della direzione di banca intesa, una realtà importante che arriverà sul nostro territorio e che sta investendo sul nostro territorio. Uno studentato lato aree Falc e un secondo studentato lato Bicocca, che abbiamo fortemente voluto insieme alla proprietà e che dà dimostrazione anche della capacità di attrarre risorse e investimenti anche sulle nuove generazioni, sui giovani che arriveranno a studiare sui nostri territori. Bicocca da un lato, magari anche una realtà relativa al campus universitario dedicato alla sanità, lato sesto, lato aree Falc. Quindi tanti investimenti che stanno partendo, sono in fase di aggiudicazione o stanno partendo le gare, che poi si sommano agli investimenti del PNRR, che comunque siamo quasi sui 50 milioni di euro che il Comune di Sesto è riuscito a portare sul territorio per riqualificare asili, riqualificare scuole, riqualificare quartieri popolari. Quindi un percorso importante che ha visto molti anni di progettazione, molti anni di predisposizione di quelli che sono degli elementi che hanno saputo attrarre i privati, hanno saputo attrarre investimenti, hanno saputo attrarre risorse pubbliche, istituzioni e che generano poi il cittadino del domani. Per questo è molto importante che in tutto questo percorso ci sia anche la scuola, la formazione, sicuramente per i nostri giovani che un domani non soltanto saranno chiamati a lavorare sul territorio, ma anche a viverci possibilmente, di rimanere sul territorio, far famiglie. Quindi abbiamo anche riqualificato in questi anni delle piscine, abbiamo riqualificato i centri sportivi, proprio per rendere Sesto una città attrattiva, non una città di passaggio, non una città dormitorio, ma una città dove la famiglia decide di rimanere e crescere insieme. Quindi una visione molto ambiziosa, una visione che ci teniamo tantissimo di mettere in pista, certo considerando i tempi della burocrazia, i tempi, le difficoltà anche con gli aumenti dei costi che abbiamo avuto su quasi tutti i cantieri, perché poi oggettivamente dall'aumento dei prezzi, del conflitto in Ucraina, quelli che sono i comuni che hanno tanti cantieri si sono trovati un po' in difficoltà, però siamo bene o male riusciti a rimettere in pista e far ripartire il tutto con un'ottima professionalità, un'ottima competenza. Io concludo qui il mio intervento, perché poi ci saranno tantissimi interventi che seguiranno per trattare l'argomento. Ringrazio veramente tutti i collaboratori, la mia squadra, la Giunta, gli uffici tecnici, che se oggi siamo arrivati qui mettendo al tavolo tante realtà importanti, potendo far vedere quelli che sono i cantieri che abbiamo avviato, è perché c'è veramente un lavoro di squadra basato sul merito, sulla meritocrazia, sulla professionalità, sulla competenza e con una visione condivisa e molto lungimirante di città e di smart city. Quindi davvero grazie e buon lavoro e buona continuazione. Grazie Sindaco, in qualsiasi momento, quando vuole intervenire, sicuramente qui abbiamo grandi possibilità e disponibilità. Ora, bene, uno dei obiettivi che si è prefissato a questa consulta dell'impresa è quello di essere di essere sede permanente di confronto, di dialogo, di proposte e anche di soluzione per temi specifici legati all'impresa, al lavoro, ai giovani e alla solidarietà. Maltresì poter avere un canale più privilegiato con le istituzioni regionali, governative e qui affrontiamo con l'onorevole Alessandro Colucci, segretario della Presidenza della Camera dei Deputati, nonché commissario della prima Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e degli Interni. Da sempre vicino alle imprese, conosce bene il territorio non solo milanese e di città metropolitana, ma anche quello lombardo e in particolare è conoscitore comunque di Sesto San Giovanni e delle sue evoluzioni. Lasciarei appunto la parola all'onorevole. Grazie onorevole. Ma io ringrazio il Presidente Vincelli di aver invitato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana che ha avuto l'attenzione e la volontà di delegarmi all'incontro di questa mattina. Credo che la presenza dell'istituzione parlamentare, di uno o dei due rami del Parlamento, sia un'attenzione importante ma anche un'attenzione dovuta rispetto anche a quanto ci ha detto nel suo saluto iniziale il Sindaco di Sesto San Giovanni, che saluto con ruolo istituzionale ma anche con amicizia e effetto. È da tanti anni che svolgiamo ruoli in politica e all'interno dell'istituzione. Credo che questa città, la città di Sesto San Giovanni, stia vivendo una fase importante, straordinaria, degna della storia di Sesto San Giovanni rispetto proprio alle caratteristiche imprenditoriali e industriali. La storia di Sesto San Giovanni coincide esattamente con la storia industriale del nostro Paese. Paese. È inutile ricordare a tutti che qui ci sono state le grandi imprese italiane, la Breda, la Campari, Ercole Marelli, la Falc. Qua c'è stato il boom economico degli anni Sessanta. Ma ovviamente, come tutte le grandi fasi della storia del nostro Paese, ci sono momenti importanti ma anche momenti di grande difficoltà. Non si può non ricordare, come è già stato sottolineato dal sindaco Di Stefano, il rischio di declino in conseguenza della crisi siderurgica e metallurgica italiana. Ha rischiato tantissimo Sesto San Giovanni davanti a un'evoluzione importante che nel boom economico c'è stato. In termini di caratteristiche di città, l'industria ha straordinariamente plasmato il volto della città, ha trasformato Sesto San Giovanni in una delle città più popolose della regione Lombardia e del nostro Paese e improvvisamente ha rischiato di vivere il momento di desertificazione, sia economica che sociale. E qua è stato il grande talento di questa città e dell'imprenditoria e di chi svolge un ruolo importante nell'ambito dell'associazione delle imprese, del sindacato, nell'ambito del sociale. saper rilanciare Sesto San Giovanni attraverso aree importanti come quella che è stata ricordata dell'area ex-falche. Perché la città della salute è la nuova frontiera che dimostra come una città, tirando su le maniche, riesce a ricollocare il proprio ruolo e la propria funzione nel tessuto territoriale ma anche nel tessuto economico produttivo. E la creazione di questa consulta delle imprese può essere l'opportunità per andare ancora oltre quanto istituzioni come il Governo o come la Regione sono riusciti già a fare, all'intuizione di mettere in campo la città della salute, e trasformare una città basata sulle imprese in una città che può avere come punto riferimento la salute e la ricerca. E la consulta delle imprese può cogliere l'occasione di questi strumenti che le istituzioni mettono a disposizione. Tra l'altro, portando il saluto del Presidente della Camera, non si può non ricordare i principi che animano la nostra Repubblica e che si basano sulla Costituzione che, come vedete, sta assumendo anche una diversa caratteristica rispetto alla modernità. Ci sono costante modifiche della Costituzione che stiamo apportando. Certamente l'articolo 1 della Costituzione non l'abbiamo toccato e non lo toccheremo. Saggiamente il Sindaco ha voluto anche ricordare gli articoli più importanti della Costituzione, compreso il numero 4, perché avrei citato esattamente questi due articoli. Che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, credo che i ragazzi la conoscano molto bene come principio, ma è ancora più interessante l'articolo 4 perché riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ma anche il dovere a essere protagonisti. E lo si può fare sia come lavoratori dipendenti all'interno del pubblico e del privato, ma ancora più sfidante è impegnarsi con una propria iniziativa attraverso l'impresa, il fare impresa, che è il perno e il pilastro della nostra società. Noi su questo dobbiamo lavorare saggiamente. Gli strumenti che sono stati elencati dal Sindaco di Sesso San Giovanni sono strumenti importanti, preziosi, per investire sul talento e sulle capacità di chi fa imprese. E allora, oltre ai principi importanti, riconosciuti dalla Costituzione, è fondamentale che tutti noi, e qua siamo ben rappresentati come istituzione, come corpi sociali, come mondo delle imprese, come professionisti, creiamo le condizioni per riuscire a facilitare il lavoro e le imprese. E allora dobbiamo certamente intervenire sul tema della burocrazia, fidandoci dei cittadini. Questo Sesso San Giovanni ha fatto, la Regione Lombardia l'ha fatto. Non si può guardare con sospetto il cittadino, l'imprenditore. Bisogna fidarsi. Per l'errore e lo sbaglio di qualcuno non si può rendere invivibile la vita di tutti. E credo che sia un principio che le istituzioni devono assolutamente difendere. Il tema della formazione. Noi abbiamo tante opportunità di lavoro, centinaia di migliaia di opportunità di lavoro, ma bisogna avere la competenza. Le istituzioni devono rendere adeguata la formazione dei giovani rispetto alle istanze, ai bisogni delle imprese. E allora da qua si inserisce tutto il tema della sostenibilità, la capacità di far evolvere il nostro Paese rispetto a tutto il tema della qualità della vita. Non possiamo immaginare di impedire al nostro Paese di essere una delle più importanti nazioni a un punto di vista manifatturiero. Dobbiamo però garantire a questo Paese di continuare a essere manifatturiero, produttivo, all'avanguardia da un punto di vista delle attività economiche, ma contestualmente dare attenzione alla qualità della vita. Una terza via. Siamo arrivati al punto che qualcuno ha teorizzato che l'uomo è il problema di questo pianeta. Perché se esiste l'uomo esiste un ambiente che viene violato. Credo che la strada da seguire sia tutt'altra. Continuare a costruire e a crescere rispettosi del tema della sostenibilità. Come il tema della cyber security. Oramai è quotidiano. I nostri ragazzi col cellulare, con i loro strumenti, sanno benissimo che è uno strumento importante, che migliora la vita dei giovani e di tutti noi. Ma è un rischio, un pericolo. Allora noi sul tema della sicurezza informatica, sicurezza dei dati, dobbiamo essere consapevoli di che strumento abbiamo, con le grandi opportunità, ma con i limiti. E questo anche per quanto riguarda il mondo delle imprese. Perché quello che rischiano i giovani con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, lo rischiano anche le imprese. Pensate che cosa è diventato per le imprese tutto il sistema informatico e sono oramai decine, in termini quotidiani, i sequestri di dati delle imprese. Perché questo è un problema che per ora non ha ancora avuto una visibilità importante, ma sul quale invece il governo sta lavorando, perché è un'altra frontiera su cui le istituzioni devono tutelare le imprese, ma devono anche garantire la formazione di giovani capaci di operare all'interno dei sistemi informatici, e anche di professionisti a essere l'eccellenza manageriale all'interno della gestione della cyber security e della cyber resilienza. Ci sono nuove frontiere. Quando si parla di modernità all'attenzione della consulta delle imprese, ci sono questi due ambiti su cui non dobbiamo solo teorizzare da norme europee, ma dobbiamo entrare nel vivo e declinarle in qualcosa di operativo, a sostegno e supporto delle imprese, ma a sviluppo dell'attività imprenditoriale. E tutte le finalità che sono riportate all'interno della consulta delle imprese di stesso San Giovanni possono darci una mano a svolgere le funzioni che ciascuno deve realizzare. In particolar modo, per quanto riguarda le imprese, la riforma del fisco, credo che sia una decennale istanza avanzata da tutto il mondo economico, e finalmente è stato dato delega al governo a impegnarsi su questo e si stanno emanando i primi decreti, perché finalmente, io non dico ci sia un fisco amico, improvvisamente amico, ma che perlomeno si cambi la percezione rispetto a un fisco che sembra che trovi sempre la falla, il problema in un'impresa per intervenire con decisione e mettendo magari anche difficoltà l'imprenditore. Allora, bisogna cambiare paradigma, non si può pensare che il cittadino o che l'impresa siano vissuti come un target o un soggetto su cui ricavare ritorni economici per lo Stato. E questo è un altro tema importante, come facilitare la possibilità di accedere al credito. Credo che sia un altro aspetto importante su cui sulle imprese bisogna dare garanzie rispetto anche ai rapporti istituzionali del governo e dello Stato. Non è pensabile in un momento di difficoltà non riuscire a dare aiuto alle imprese. I dati ci stanno confortando, il nostro Paese sta crescendo molto più di Germania e Francia, anche i dati da un punto di vista dell'occupazione sono straordinariamente migliorati, c'è stata una diminuzione dell'8% della disoccupazione. Ma nonostante questo dobbiamo guardare con ambizione, con sfida al futuro e per farlo ci deve essere un vero lavoro di sistema. Quindi fare politiche pubbliche adeguate, lungimiranti, con tutti gli attori coinvolti, in particolar modo confrontandosi. Uno degli aspetti che potrebbe veramente far tornare la politica credibile, in alcune realtà questo sta succedendo, e credo, in questo caso lo dico dal componente del Parlamento, che anche da un punto di vista governativo ci sia stato un recupero di credibilità sugli impegni assunti, in realtà amministrative come il Sesto San Giovanni altrettanto, la politica torna credibile se risolve i problemi. Se trova le strade per aiutare chi quotidianamente si alza la mattina e cerca di fare col proprio talento il bene per la sua famiglia, per la sua impresa, ma soprattutto per la sua comunità. E in questo la responsabilità dell'istituzione massima, su cui la presenza oggi della Camera è importante, è preziosa. So che ci sono parlamentari che ci stanno raggiungendo e che su questi temi sono particolarmente concentrati. Parlavo di parlamentari particolarmente concentrati, ci ha raggiunto l'onorevole Arecavo, che saluto e ringrazio perché è vicepresidente della Commissione Attività Produttive, ha fatto tanta strada stamattina per raggiungerci, perché è un punto di riferimento sul tema delle attività produttive molto importante, ha incontrato anche un incidente a proposito sindaco di infrastrutture. Non è sufficiente quello che fai tu, ci vuole qualcos'altro anche intorno che ci garantisca. e con questo ultimo passaggio ringrazio ancora dell'organizzazione di questa iniziativa e credo che questo è una tappa del lavoro della consulta delle imprese, ma deve essere una tappa di un percorso ancora più lungo per raggiungere dei risultati che quando partono dal territorio sono certamente più efficaci. Quindi buon lavoro e un grande bocca al lupo. Grazie onorevole Colucci, ringrazio l'onorevole Ilaria Cavo che nonostante qualche peripezia è riuscita, è riuscita chiaramente ad arrivare. Ecco, è proprio vicepresidente della decima Commissione Attività Produttive, Turismo, Commercio e Made in Italy. Beh, su questo sicuramente nella Commissione da un anno e mezzo a questa parte ci sono diversi risvolti all'interno della Commissione. Quelle che ci sono sicuramente alcune situazioni che sono importanti per quanto riguarda il discorso dell'impresa e delle attività produttive, ma anche secondo me il turismo d'impresa è sicuramente importante. Partendo da chi fa imprese, va sostenuto e premiato e quindi non ostacolato, sulla parte del turismo l'Italia si confermerà nei prossimi anni tra le mete preferite europee. Sesto San Giovanni si trova, essendo collocata tra Monza e Milano, a necessità di trovare una sua collocazione, una sua identità turistica e di accoglienza. La Lombardia ha nel suo programma politico il rilancio delle attività turistiche. Si profila quindi un'ottima opportunità di partnership tra amministrazioni comunali e privati, quindi le imprese, per nuove proposte sul territorio. Quindi rinvolgendosi a Regione Lombardia, al Ministero chiaramente del Turismo e alla decima commissione, cerchiamo di capire e comprendere che supporto effettivamente il Governo può dare attraverso le commissioni e le aule parlamentari. Prego onorevole. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie ovviamente per questo invito. Mi scuso se sono arrivata un po' in corsa, ma ce l'abbiamo fatta nonostante un blocco abbastanza importante sulla A4. Mi fa piacere essere qui, mi fa piacere ovviamente perché credo che ogni momento di confronto tra vari livelli istituzionali sia fondamentale ed è anche lo spirito con cui credo si sia lavorato nella nostra commissione, che è una commissione molto variegata, perché in commissione attività produttive ci occupiamo di imprese, ci occupiamo di made in Italy, ci occupiamo di energia, ci occupiamo di turismo, ci occupiamo di ricerca, quindi è evidente che è una commissione di grande attualità dove arrivano, e sì, in alcuni casi, quando è in sede referente, si modificano, anche emendano decreti importanti e disegni di legge importanti. E quindi mi fa piacere essere qui nella veste sia di ascolto, di capire ovviamente le esigenze che emergono da questo territorio, e ovviamente di racconto anche di quello che abbiamo ovviamente fatto finora. Nello spirito che avete, è importante, io ho visto, apprezzato molto il fatto che qui sia nata la consulta delle imprese, che non è un qualche cosa di scontato e di presente su tutti i territori, il fatto che si sia sostanzialmente istituzionalizzato il dialogo tra imprese e territorio, tra imprese e amministrazione comunale, credo che sia un qualche cosa di assolutamente fondamentale. Mi fa piacere essere qui anche perché io per anni, nella mia precedente vita professionale, ho lavorato poco lontano da qua, quindi è un territorio che conosco, che delle volte ho anche vissuto come inviata a fare qualche reportage, io facevo la giornalista e quindi ero qui a Cologno fino al 2015. E anche perché, devo dire, vedendo, analizzando, mi sono andata anche un po' a leggere le relazioni della consulta delle imprese, sono pubbliche, sono sul sito, vedo che ci sono anche tante affinità, non soltanto con, diciamo, di vicinanza logistica con una parte della vita che ho trascorso qui, ma anche con la realtà dove io ho speso molto della mia attività come assessore regionale, che è Genova, perché abbiamo delle affinità di trasformazione davvero importanti, di realtà che hanno vissuto l'industrializzazione, nelle varie fasi dell'industrializzazione, quella positiva, quella anche di una fase più discendente, quella che è diventata trasformazione, qui ovviamente siete in una grande zona e in una grande comunità in trasformazione, con tanti progetti, con ovviamente tante sfide e inevitabilmente anche tante domande. Devo dire che approcciandomi, io mi permetto di fare un discorso un po' ampio, poi ovviamente mi bloccate quando mi dovete bloccare, andando un po' a vedere i lavori che sono stati fatti e anche le varie domande che sono arrivate, i vari interventi pubblicati appunto dalla consulta delle imprese, a me sembra di capire che nella grande spinta che arriva da questo territorio, però alla fine la domanda più forte è sempre quella riferita al capitale umano e alla necessità di dare risposte per trovare professionalità che questa trasformazione la permettano. Ed è il grande tema del mismatch, della difficoltà di attivare formazione, qui parlo anche con un po' di esperienza che ho avuto sia come assessore regionale e alla formazione sia come delegata del mio gruppo, qui colui ce lo può testimoniare, a seguire le varie riforme che sono in atto anche dal punto di vista dell'istruzione, perché io penso che non possiamo parlare di sviluppo delle imprese se non andiamo di pari passo anche con tutto quello che è lo sviluppo della formazione e dell'istruzione. Perché dico questo? Perché all'interno della commissione delle attività produttive abbiamo avviato diverse indagini conoscitive che poi in alcuni casi hanno già portato a dei provvedimenti. Penso al disegno di legge del Made in Italy che non mi metto qui a raccontare perché credo che parliamo una pratica di addetti ai lavori, sapete che cosa ha portato come sostegno il miliardo di fondo per le imprese piuttosto che l'istituzionalizzazione di percorsi, di formazione che siano mirate alla valorizzazione del Made in Italy ma quello che ha fatto emergere anche quell'indagine conoscitiva è una grande necessità di mano d'opera e di figure professionali che non sempre viene garantita, anzi è il vero problema che in questo momento esiste, quindi credo che un confronto e un ragionamento insieme su questo in un momento di stati generali sia importante. Perché lo dico? perché appunto leggendo i vostri report vedevo necessità ovviamente di insistere sull'apprendistato, mondo delle imprese che ha difficoltà a trovare lavoro, lavoratori e personale motivato e specializzato, enti di formazione molto attivi su questo territorio che poi credo prenderanno la parola dopo che quindi potranno andare ad argomentare ulteriormente questo aspetto, amministratori delegati di aziende che confermano che è necessario risolvere questo tema e che la difficoltà di reperire personale è più nella provincia, quindi rispetto a Milano ovviamente in un territorio come questo non solo ovviamente ma anche in un territorio come questo diventa importante. Allora dicevo l'indagine conoscitiva sul Made in Italy ad esempio, vi do spunti che possono credo servire a ragionare, a fare un ragionamento complessivo ci ha portato a certificare a livello nazionale siamo qua ovviamente per fare un raccordo tra realtà territoriale che voi conoscete bene e che potete illustrare e quello che sta emergendo ovviamente nazionale l'ANIE che è l'associazione delle imprese ad esempio dell'elettronica e delle elettriche dell'elettronica sostiene che ha necessità di 80.000 diplomati TS all'anno pensate che in questo momento ne sono iscritti 19.000 ogni anno agli ITS italiani e 5.200 sono i diplomati vedete che gap già c'è soltanto che su questo settore che non credo sia un settore a voi avulso perché nella trasformazione che avete capire che cosa sta succedendo da questo punto di vista che è prettamente legato all'innovazione credo che sia importante quelli che mancano di più sono gli ingegneri e al 54% è il mismatch dal punto di vista degli ingegneri una ricerca mancano anche 40.000 e qui arriviamo più al settore del turismo che è stato citato e su cui ovviamente poi tornerò addetti nel settore invece delle industrie culturali e creative quindi pensate in quale contesto ci stiamo muovendo e che cosa ovviamente siamo incentivati a dover fare a dover mettere in atto non abbiamo soltanto la nostra indagine conoscitiva vi ho dato ovviamente soltanto qualche flash non posso andarvela a raccontare tutta sono più di 200 pagine pubblicate e che poi hanno portato appunto al provvedimento che sapete Ampal Excelsior che fa dei report molto puntuali io li ho sperimentati anche come assessore regionale le previsioni di Excelsior sono sempre molto mirate e poi si avverano diciamo proprio alla virgola alla percentuale parla nel 2023 di un mismatch di reprimimento delle professioni del 45,6% a livello nazionale era del 38% un anno prima quindi questo è il contesto e credo che quando si parla di stati generali molto incentrati nel titolo su impresa, lavoro e sul capitale umano dobbiamo tenere presente assolutamente questi dati la domanda di lavoro è aumentata del 17% nel settore manufatturiero che vi riguarda del 21% nel turismo che vi riguarda del 17,7% nei servizi e anche questo ovviamente è una realtà di confronto per tutti ma quali sono le professioni nel borsino delle professioni più difficili da reperire 66% i dirigenti il 61% gli operai specializzati il 51% i tecnici e questi sono dati che credo a livello nazionale poi si possono traslare sul territorio ma questo per dire che i temi che ci sono qua sono temi nazionali che decreto dopo decreto si devono e si vogliono andare ad affrontare il tema è che su 153.000 assunzioni di under 30 abbiamo un difficile riperimento del 48% perché non ci sono i ragazzi pronti ad occupare quei posti pensate qual è è un tema importantissimo perché ovviamente significa che si stanno perdendo delle occasioni e non crediamo che il sistema possa permettersi di perdere quali sono i punti centrali che penso possano servire anche a un dibattito come il vostro sicuramente come il vostro come il nostro insomma sono qua evidentemente per dare disponibilità di ascolto di recepire le conclusioni che arriveranno da questa giornata assolutamente importante e ovviamente per poi capire come incanalarle anche nella nostra commissione che è fatta di spunti di confronto e di rapporti chiaramente con i territori c'è un tema fondamentale che è quello dell'orientamento perché se non spingiamo sull'orientamento difficilmente riusciamo ad andare a risolvere questo mismatch non è un qualche cosa di semplice non è un qualche cosa di immediato ma dobbiamo crederci io ad esempio in Regione Liguria avevo spinto molto su un salone che è quello degli orientamenti che ha dato dei risultati importanti a livello nazionale è stata istituita non soltanto la figura del tutor ma anche quella dell'orientatore ai livelli alti dell'istruzione parliamo delle scuole superiori c'è la scuola secondaria di secondo grado io penso che bisognerà continuare diciamo a tenere la barra dritta da questo punto di vista e spingere perché l'orientamento arrivi anche alle classi inferiori perché bisogna iniziare a fare un tema davvero culturale importantissimo per arrivare a che cosa? ovviamente ad affermare l'importanza di tutta quella che è trasformazione, formazione professionale formazione tecnica perché sono centrali e invece qui abbiamo delle carenze delle carenze di scelte da questo punto di vista delle carenze soprattutto di scelte e di parità di genere perché se andiamo a vedere le ragazze e le quote femminili che scelgono ad esempio le materie STEM vediamo che c'è un divario assolutamente importante qualche cosa è stato fatto abbiamo fatto la riforma è stata fatta dal governo la riforma dell'istruzione e formazione professionale e devo dire che ci siamo abbastanza inseriti in questo dialogo perché era una riforma riportare a quattro anni anziché a cinque l'istruzione per chi sceglie ovviamente la parte professionale è una sfida che deve decollare chiaramente deve essere capita è un tema culturale è un tema che riguarda anche però credo le imprese le famiglie e tutti voi il raccordo lì non era semplice perché era una riforma che portando a quattro anni ovviamente in via sperimentale sapete adesso però bisogna crederci e spingere soprattutto lo dico al mondo imprenditoriale che poi è fatto ovviamente di rapporti è fatto credo di incentivazioni sempre più necessarie di rapporti tra imprese e tutto il mondo dell'istruzione lì si rischiava di tagliare o di penalizzare tutta la parte invece della formazione professionale quella che le regioni gestiscono e su cui hanno la competenza di programmazione con un accorgimento siamo riusciti a fare in modo che non ci siano diciamo sperimentazioni di serie A o di serie B ma che tutti gli studenti sia della scuola superiore che della scuola che scelgono i percorsi dai triennali che poi diventano quarti, quinti anni possano avere pari dignità pari dignità di titoli e pari dignità di percorsi di scelta che poi siano sfociano nell'ITS o sfociano poi nell'università io penso che puntare aver puntato come sistema paese sull'ITS sia stata una scelta importante che però su cui dobbiamo continuare a credere e lo dico perché l'ITS e i corsi post diploma sono corsi che sono di fatto avviati da fondazioni che hanno le imprese al loro interno e quindi è quello diciamo il modello per cui l'impresa può veramente far capire di che cosa ha bisogno e attivare i corsi di cui realmente ha bisogno per andare a centrare una finalità occupazionale e anche una finalità di orientamento importante il centro è il tema della formazione nel nord ovest la formazione nord ovest e nord est sono chiaramente le regioni le aree italiane che hanno investito di più parlo in questo caso del mondo aziendale quindi salto il ragionamento su quello che le aziende quindi con i dipendenti soprattutto sulla formazione continua hanno attivato e il nord ovest quindi qui è l'area in cui stiamo parlando ha attivato formazione nel 72% dei casi e credo che siano dati assolutamente rilevanti non sono omogene a livello nazionale ma ci dicono molto ci dicono che 4 milioni di lavoratori hanno fatto formazione professionale ovvero nella sfida che c'è abbiamo parlato di orientamento abbiamo parlato di formazione dei ragazzi e dobbiamo anche pensare alla riconversione ovviamente dei dipendenti nella era della trasformazione e in una zona di grande trasformazione come questa e quindi la sfida che abbiamo davanti che stiamo portando avanti anche devo dire come intergruppo della sussidiarietà ne abbiamo parlato con Alessandro nell'ultima riunione recentemente non so se ha accennato lui prima non voglio essere l'indondante è quella di capire che le aziende evidentemente e sicuramente in questo territorio ci sono aziende che hanno contribuito a quel 72% e a quei milioni di lavoratori formati che gli investimenti che le aziende fanno in formazione vengano equiparati agli investimenti che vengono fatti sostanzialmente nei macchinari che abbiano nei bilanci negli ammortamenti e nel trattamento la stessa diciamo importanza che ha investire invece nelle tecnologie e nelle infrastrutture materiali dei macchinari è un obiettivo che ci stiamo dando il nostro presidente del gruppo è anche presidente dell'intergruppo cercheremo di arrivarci perché questo sarebbe un segnale importante per tutti ma credo anche soprattutto per un territorio come questo che essendo in grande trasformazione ha penso grande necessità di trasformare non solo di essere recettivo nei confronti ovviamente di nuove figure di professionali ma la necessità di non perdere quelle che devono essere ovviamente convertite e tra le aziende nei questionari che sono stati diffusi è evidente che un tema e una difficoltà che le aziende hanno è quella di di non riuscire ad attivare formazione e parliamo non delle grandi imprese ma delle medio piccole per un tema di costi per un tema di organizzazione e quindi è chiaro che mettere il capitale umano e ragionare con l'importanza del capitale umano al pari degli investimenti su il resto diciamo delle attrezzature e delle tecnologie importanti per le aziende sia assolutamente fondamentale è un obiettivo che ci stiamo dando ovviamente tanto è stato fatto nel voler raggiungere questo obiettivo a livello di credito d'imposta invece su tutto il tema della formazione non soltanto ovviamente ma della riqualificazione delle aziende penso a industria 4.0 che è più collegata alla trasformazione tecnologica industria 5.0 che è collegata alla trasformazione energetica dove la formazione viene sgravata a livello di credito d'imposta che è qualcosa che è un meccanismo importante ma che probabilmente ha necessità di avere un'evoluzione come concetto e arrivare a un qualche cosa di più diciamo certo per le imprese a livello governativo visto che una delle domande era che cosa è stato fatto su tutto il mondo imprenditoriale e diciamo come finanziamenti che abbiamo anche potuto monitorare come commissione tra contratti di sviluppo rinnovo della nuova Sabatini industria 5.0 una parte ancora di 4.0 crescita sostenibile sono stati sostanzialmente 14 miliardi quelli che sono stati investiti adesso sul mondo imprenditoriale credo che sia un segnale importante vuol dire che è stato fatto tutto no siamo qua ovviamente a capire tutti i correttivi e a capire soprattutto chiaramente l'evocazione dei singoli territori io vi posso dire che in questo momento come commissione attività produttive siamo incentrate ad esempio su un'indagine conoscitiva che credo anche questa vi possa riguardare quindi le audizioni sono ancora aperte e c'è chiaramente una disponibilità di dialogo ad esempio sull'intelligenza artificiale quindi su tutte le sfide che l'intelligenza artificiale porta e le porta ovunque anche ovviamente in senso lato e non siamo qua a fare un dibattito su questo perché altrimenti ci partirebbe tutto il giorno ma anche qui sui fabbisogni occupazionali e sulle fabbisogne di figure sta emergendo chiaramente la grande sfida e la grande carenza che riguarda ovviamente l'ICT e tutte le competenze più legate chiaramente al tema informatico noi abbiamo una media come Italia rispetto all'Unione Europea di cultura digitale della popolazione che è inferiore alla media europea mentre siamo superiori su tutte le altre voci che abbiamo elencato siamo al 3,8% quindi un dato sicuramente da far crescere una carenza soprattutto sulla parte femminile e una grande sfida perché chiaramente è lì soprattutto che in questo momento c'è una grande ricerca ho fatto una carellata ovviamente la domanda che mi è stata fatta io mi sono incentrata molto su tutto quello che noi facciamo a livello di imprese perché ho capito che la grande spinta di questa giornata arrivava soprattutto dal tema diciamo impresa lavoro e ribadisco capitale umano chiaramente c'è tutto il tema della riconversione turistica da cui non sfuggo noi abbiamo un piano triennale del turismo che è stato approvato che è un piano molto ampio all'interno del quale ovviamente si può chiaramente ragionare e credo che ascoltare le istanze e capire nell'ambito delle istanze come unire tutto questo sia assolutamente fondamentale per cui io rimango assolutamente a disposizione nella compatibilità di tempo che ho questa mattina ma sicuramente nel rapporto che si avvia dopo un incontro di questo tipo e credo un segnale di presenza di questo tipo per capire chiaramente come incanalare tutto questo con i vari strumenti che ci sono e anche con quelli che arriveranno che possono essere quelli ovviamente di tutta la parte del turismo laddove ci sarà necessità e io credo che la grande vocazione che vi state dando che si legge che si capisce di diventare un polo attrattivo perché come è collegato a Sesso San Giovanni come è posizionata è evidente che dal punto di vista tanto legato a tutto il tema fieristico quanto legato a tutto il tema dell'innovazione penso che sia una sfida che non solo a cui dobbiate ambire ma che dovete assolutamente cogliere ribadisco strumenti ne sono stati messi in atto altri strumenti sicuramente potranno arrivare e dovranno arrivare però io penso che se un ragionamento da fare è importante è che dobbiamo mettere al centro chiaramente l'ascolto le prospettive dei nostri giovani perché chiaramente anche questo sta nel vostro titolo e capire che è giusto parlare assolutamente di infrastrutture ne parliamo tanto e io ho la stessa dimostrazione di come siano importanti per farci arrivare puntuali e presenti agli appuntamenti delle nostre giornate e sulle infrastrutture potremmo ovviamente aprire un ampio dibattito e credo che sia un'altra cosa che ci accomuna molto noi dalla Liguria un tema infrastrutturale importante lo abbiamo ma non possiamo dimenticarci che l'altra infrastruttura fondamentale senza la quale il Paese non riesce a dare risposte e non riesce a dare risposte soprattutto alle imprese è quella davvero della formazione e di far capire soprattutto ai giovani quali sono le scelte importanti per fare in modo che riduciamo questo mismatch tra quello che le aziende cercano e le scelte dei ragazzi per evitare di far perdere occasioni agli uni agli altri il tema infrastruttura formativa parlo di scuola parlo di università parlo di TS è diciamo la grande sfida che abbiamo davanti di cui penso dobbiamo rimanere assolutamente consapevoli senza pensare che sia qualcosa di subordinato o di diciamo meno importante rispetto alle infrastrutture quelle fisiche quelle fatte diciamo di cemento di mattoni e di collegamenti rimango in ascolto pronta a recepire tutti gli spunti e gli stimoli che arriveranno soprattutto dagli interlocutori molto puntuali e specifici di questa giornata grazie grazie onorevole Ilaria Cavo la ringrazio personalmente ma la ringrazio anche Sesto e sicuramente la nostra collaborazione in seguito proseguirà perché abbiamo veramente accolto con molto favore queste sue questo suo intervento e questi suoi contenuti molto molto concreti io direi a questo punto di continuare questo filone sulla questione della formazione della scuola dando la parola al dottor Davide Ballabio di Asso Lombarda direttore area sistema formativo e capitale umano e a questo punto cosa chiedono poi le imprese alla scuola e alle istituzioni e Asso Lombarda come sostiene le start up costituite da giovani in alcune battute perché so che non è proprio il suo settore discorso le start up ma sicuramente è un continuo di questo discorso che ha introdotto l'onorevole Ilaria Cavo grazie bene grazie buongiorno a tutti grazie per questo per questo invito è stato diciamo questi primi interventi hanno aperto diversi fronti che vedono appunto le imprese fortemente fortemente interessate abbiamo sentito dalle parole del sindaco di Stefano tante trasformazioni che riguardano questo territorio il rilancio la rigenerazione di alcune aree industriali pronte ad accollere diciamo quelli che sono i trend o comunque gli ambiti economici di traino per l'intera regione per il paese abbiamo sentito poi dall'onorevole Colucci e dall'onorevole Cavo quella che è l'attenzione sui temi delle transizioni verso transizioni green transizioni digital che sono le sfide imprescindibili per le nostre aziende così come i temi del fisco dell'accesso al credito su cui abbiamo una forte attenzione stiamo apprezzando diciamo quelle che sono le attenzioni da parte del governo rispetto alle esigenze delle nostre associate ma appunto sull'invito appunto del dottor Vincelli proseguo appunto sul ragionamento della formazione i dati enunciati dall'onorevole Cavo rispetto al mismatch sono quelli che vediamo tutti noi che vedono le nostre aziende nel fare impresa quotidianamente c'è un tema molto significativo appunto di ricerca del personale di carenza di alcune figure che sono appunto strategiche per accompagnare queste transizioni appunto la transizione verso la sostenibilità e la transizione digitale in particolare appunto le figure legate al panorama tecnico tecnico scientifico quelle competenze che sono sia appannaggio appunto di studenti universitari ma anche di tutti i diplomati dei percorsi TS e diplomati in uscita dalle scuole superiori a indirizzo tecnico professionale quindi è una vera e propria emergenza quella del capitale umano tenuto conto di quelli che sono poi anche le prospettive dell'andamento demografico che è la terza grande sfida che le imprese ma l'intero paese si trovano a dover affrontare per poter mantenere questi livelli di competitività che fanno appunto la nostra manifattura il secondo player a livello europeo venendo appunto alla domanda cosa chiedono le imprese le imprese chiedono ma stanno anche facendo molto se pensiamo alle sperimentazioni che sono state richiamate questa mattina quindi questa riforma del 4 più 2 tutto il tema dell'ITS nonché le esperienze di apprendistato in particolare appunto con gli amici salesiani sono tante le aziende che si stanno mettendo in prima persona proprio per lavorare insieme con le istituzioni formative ed è questo appunto il vero tema su cui il nostro paese deve recuperare diciamo un gap rispetto alle migliori esperienze che ci sono a livello europeo di formazione e di formazione duale pensiamo appunto alla Germania ma non solo anche anche Francia anche in Spagna hanno dei numeri rispetto a quello che è il segmento coperto in Italia dall'ITS che sono decisamente superiori ai 20.000 studenti che sono stati richiamati dall'onorevole cavo e quindi ecco questa alleanza forte significativa questa collaborazione sempre più strutturata tra mondo della formazione quindi parlando di scuole enti di formazione professionale ITS università e quello che possono dare le imprese nella formazione appunto delle nuove generazioni competenze che visto appunto la velocità con cui si muovono le varie rivoluzioni industriali pensate appunto alle distanze di tempo che c'era stata dalla prima rivoluzione industriale alla seconda quanto invece in pochissimo tempo si è passati da transizione 4.0 a transizione 5.0 su cui si sta lavorando adesso quindi è una velocità direi anche impressionante per cui diciamo questa collaborazione la possibilità anche da parte delle diciamo dei docenti in prima di tutto ma anche degli studenti di poter attingere a quelle che sono le competenze e anche le dotazioni infrastrutturali che hanno le imprese diventa fondamentale per avere quella formazione al passo per i tempi quindi sicuramente molto bene diciamo le riforme che si stanno sviluppando abbiamo avuto appunto il consolidamento dell'ITS con anche le risorse del PNRR bene anche la riforma dell'orientamento che punta a renderlo effettivamente strutturale già a partire dal primo anno delle scuole medie per arrivare alle scuole superiori perché è un altro dato da non dimenticare è proprio il livello di dispersione scolastica nel nostro paese che poi arriviamo ad una dispersione anche a livello universitario tanto che con la regione Lombardia si sta ragionando anche di un'iniziativa di recupero dei drop out accademici per riconvertirli diciamo o in percorsi ITS o anche direttamente appunto nel mercato del lavoro per cui appunto anche la riforma del 4 più 2 va nella direzione che è auspicata e come a Solombarda il nostro impegno appunto è a sollecitare le aziende molte lo stanno già facendo però sappiamo anche noi che dobbiamo ampliare diciamo il parterre di imprese che collaborano con il sistema educativo nel sensibilizzarle su questa attenzione sempre più significativa al capitale e al capitale umano abbiamo recentemente organizzato quella che abbiamo chiamato giornata della tecnologia un tech tour dove abbiamo coinvolto più di 60 aziende e oltre 1700 studenti in visite aziendali proprio per stimolare quell'attenzione al mondo STEM abbiamo colto diciamo l'introduzione l'approvazione a livello parlamentare della settimana dedicata alle tecnologie STEM dal 4 all'11 febbraio di ogni anno abbiamo colto subito questa opportunità sollecitando l'attenzione verso questi filoni disciplinari che offrono sicuramente delle prospettive interessanti di inserimento lavorativo e l'investimento sull'ITS è assolutamente significativo noi come a Sonombarda siamo partner di 8 fondazioni sui nostri territori di competenza giusto per citare un esempio è stare sul territorio di Sesto su quelli che cosa rappresentano l'ITS rispetto all'evoluzione della progettuale rispetto alla città della ricerca e della salute se non sbaglio nel 2018 abbiamo lanciato questo corso per tecnici in ambito biomedicale sono tecnici appunto di manutenzione delle apparecchiature biomedicali quindi le macchine per risonanze per TAC insomma proprio nell'agganciare quelle che sono appunto gli ospedali già presenti ma anche tutta questa attività di ricerca e dall'altro ecco poi ripeto appunto la sollecitazione e la collaborazione anche chiaramente con il fronte universitario su quelle che sono delle pagine didattiche sul tema delle start up che è stato richiamato come a Sonombarda abbiamo appunto tra le fin da appunto quello di promuovere nuova impresa abbiamo istituito un desk che accoglie appunto le istanze provenienti dai giovani che hanno appunto idee innovative per supportarli nella costituzione di start up e non solo nella costituzione ma anche proprio per dare gambe insomma a queste idee imprenditoriali attraverso appunto supporto nell'accesso al credito al crowdfunding a tutti quelli che sono gli adempimenti burocratici perché nonostante appunto i tentativi di semplificazione c'è ancora molto da fare su questo fronte quindi cercare di dargli quel supporto in modo tale che chi ha avuto un'idea innovativa un'idea creativa possa dedicarsi allo sviluppo di quell'idea e sul resto insomma tutti ripeto le parti di adempimento ci lavoriamo assolutamente noi per cui forte attenzione sulle start up e ultimissimo passaggio riguarda appunto anche i lavoratori è stato richiamato anche la necessità di aggiornamento professionale di chi è già inserito all'interno del mercato del lavoro su questo c'è un impegno delle aziende c'è una forte collaborazione anche con le organizzazioni sindacali su quello che è in particolare i fondi interprofessionali pensiamo appunto fondi imprese fondi dirigenti che attengono insomma il nostro sistema industriale su cui diciamo c'è grande attenzione e stimolo alle aziende utilizzarli sempre più proprio nell'ottica di questa riqualificazione per agganciare diciamo le esigenze di competitività di trasformazione di cui ho parlato in precedenza direi questo è il quadro di sintesi ecco poi disponibili insomma eventuali confronti successivi grazie grazie dottor Ballabio di Asso Lombarda giovani imprese un valido connubio centrale nella collaborazione tra le istituzioni amministrative e le imprese e gli istituti scolastici e mi piacerebbe effettivamente insieme alla consulta insieme a voi insieme anche al sindaco costruire un modello molto creativo che possa essere di esempio anche qui in Italia e con questo introduco il dottore Francesco Cristinelli che è componente della consulta anche delle imprese ma il suo lavoro è direttore Salesiani Lombardia per formazione e lavoro la trasformazione della scuola italiana è fondamentale è un lavoro in rete tra scuole e aziende che cosa si può fare chiaramente sul territorio ma poi giustamente per esempio possa essere esempio per tutta Italia prego grazie 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 ringrazio il sindaco Roberto Di Stefano per l'invito ringrazio Gian Maria Vincelli per il lavoro che stiamo portando avanti appunto con la consulta delle imprese da danno a questa parte ringrazio per gli sguardi di prospettiva che mi hanno preceduto che sono assolutamente preziosi per chi poi lavora nel contingente e nello spaccato un po' più del micro ecco lo sforzo della consulta è stato un po' quello di rendere un po' pragmatici con delle piste operative quelli che possono essere questi sguardi macro che ci sono stati consegnati ecco credo che la scuola italiana e quando parlo di scuola italiana parlo della scuola tecnica parlo del mondo dell'istruzione della formazione professionale sta attraversando un momento di trasformazione importante da un passaggio della trasmissione dei saperi alla capacità di costruirlo insieme costruirlo insieme passando a delle vere proprie esperienze didattiche collaborative e capite bene che dentro questa trasformazione certamente la scuola ne ha la regia però certamente accanto alla scuola ci sono poi le aziende e i vari attori di quelli che è appunto il mondo del lavoro del territorio credo che la scuola sta scoprendo sempre di più giorno dopo giorno come sia fondamentale costruire reti di collaborazione con il mondo delle aziende perché è proprio questo insieme di rete che è in grado di garantire esperienze diversificate esperienze diversificate per non confinare il tema della formazione semplicemente al mondo della scuola ormai il tema della formazione passa attraverso dei veri e propri sistemi di collaborazione aziendali territoriali sociali una maggiore integrazione credo tra scuola e azienda basata sul saper fare sviluppa competenze trasversali che consentono al ragazzo un apprendimento costante e continuo in ogni aspetto della propria vita che gli permette poi di guidare nel miglior modo possibile quello che può essere il percorso di studi più adeguato per valorizzare le proprie attitudini personali e questo per permettere anche quello che è la riduzione del tasso di dispersione scolastico ecco credo che l'alleanza con i soggetti economici sociali e le aziende rende più efficace la formazione in relazione poi alla determinazione dei curriculi di quelli che sono i profili di uscita alla progettazione delle attività didattiche dei tirocini dell'alternanza scuola-lavoro alla realizzazione di vere e proprie occasioni per applicare le conoscenze apprese dai ragazzi durante quello che è il loro percorso formativo ecco è bene coscientizzare che i luoghi di lavoro sono contesti ormai diventati cognitivi formativi sede di relazioni sociali fondamentali per fornire agli allievi conoscenze aggiornate su quella che è l'organizzazione del lavoro la cultura d'impresa sulle norme che regolano i contratti di lavoro e su quello che è il lavoro e lo sviluppo sostenibile ecco in questa rete mi piace sottolineare sette elementi molto pragmatici nella rete scuola-azienda che potrebbero essere continuamente implementati per costruire delle reti effettivamente virtuose e generative la prima formalizzare dei veri e propri accordi di rete tra le scuole e le aziende dove si definiscono degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento di quella che è la qualità formativa questo credo che sia fondamentale per quelle che sono le filiere produttive del territorio la seconda la coprogettazione dei percorsi formativi che impegnano certamente la scuola ma che devono impegnare anche il mondo del lavoro pensiamo a quello che è il sistema che c'è stato appunto anche prima ricordato virtuoso dei sistemi FTS e ITS dove i moduli formativi vengono proprio erogati da quelli che sono da quello che è il mondo aziendale quindi dove l'azienda diventa un vero e proprio luogo di apprendimento per sviluppare nuove competenze terza cosa l'impegno diretto delle aziende nell'allestimento di quelli che sono i laboratori e l'aggiornamento di quelle che sono ovviamente tutto il know-how per permettere ai ragazzi di maniera aggiornati su quello che sono appunto le innovazioni a passo con i tempi la quarta cosa la costituzione all'interno delle scuole di comitati tecnici scientifici credo che questo sia prezioso per un'interazione sistematica tra scuola e mondo delle imprese ecco in questo momento i comitati tecnici scientifici aiutano assolutamente a sviluppare quelli che sono gli apprendimenti nei laboratori la flessibilità nell'offerta formativa e l'arricchimento dell'offerta formativa per rimanere sempre allineati con quelli che sono appunto gli sviluppi estremamente veloci del mondo del lavoro quinta cosa la valorizzazione del tutor formativo e aziendale credo che questa figura sia la figura di confine la figura ponte che permetta la transizione del ragazzo dai percorsi scolastici ai percorsi legati più al mondo delle aziende sesta cosa e questo lo dico più alla scuola la capacità della scuola di accompagnare il giovane nello sviluppo delle competenze trasversali quindi non semplicemente all'interno di quelle che sono le discipline ma formalizzare dei veri e propri modelli di apprendimento anche della formazione on the job sicuramente siamo tutti consapevoli dell'importanza delle competenze trasversali delle cosiddette soft skills ecco è importante che anche oggi la scuola se ne faccia carico in tema di sviluppo formazione anche in quegli spazi un pochino più destrutturati che riguardano la crescita a tutto tondo del ragazzo ed ultima cosa che ritengo assolutamente importante che l'ha già ricordato prima l'onorevole cavo l'apprendistato ecco credo che l'apprendistato articolo 43 a 45 per il raggiungimento della qualifica del diploma per il diploma ITS e l'IFTS sia sicuramente lo strumento principe per permettere esattamente questa transizione tra scuola e mondo del lavoro ecco e allora vorrei un po' più entrare nel merito del progetto un po' più concreto che la consulta ha voluto un po' costruire e che nei prossimi mesi vorrebbe poi rendere fattivo sul territorio e sulla città di Sesto San Giovanni che è stato quello appunto di una costituzione di un vero e proprio tavolo di lavoro guidato dagli attori del territorio una vera e propria comunità educante che sia in grado di mettersi al servizio della città e del territorio che sia cabina di regia che permetta di uscire un po' da questa logica emergenziale un po' che anche l'onorevole Cavo ci raccontava e ci permetta di lavorare in modo un pochino più organico per definire quelli che sono i bisogni del territorio ecco questo tavolo dovrebbe essere composto sicuramente dalle figure istituzionali del Comune dai centri di formazione professionali del territorio dagli enti accreditati ai servizi al lavoro del territorio dalle scuole dalle aziende da tutti gli attori che ruotano attorno al mondo del lavoro per offrire servizi alle aziende e ai giovani ecco un tavolo che vuole avere degli obiettivi ben precisi quello di accompagnare le scuole i centri di formazione professionale e le aziende la transizione dello studente dalla scuola al mondo del lavoro vuole offrire servizi informazione consulenza ai giovani e alle aziende e vuole costruire dei veri propri hub operativi nei centri di formazione professionale e nelle scuole con l'idea appunto di una collaborazione in rete il tavolo attraverso l'operatività appunto di questi hub dislocati sulla città vuole occuparsi di cinque cose in modo strategico operativo e fattivo accoglienza l'accoglienza l'informazione e la consulenza per i giovani diplomati e per le aziende del territorio che cercano personale il tavolo vuole sviluppare nuove modalità di orientamento certamente ce l'ha ricordato prima l'onorevole Cavolo dell'importante figura del tema dell'orientatore certamente sul tema dell'orientamento vorremmo stimolare anche le aziende career day piuttosto che dei veri e propri open day all'interno delle aziende l'idea di aprire le aziende alle famiglie agli allievi ai ragazzi di terza media per provare un po' a contaminare anche quella che è un po' la visione forse un po' arcaica del mondo degli adulti e del mondo dei genitori che accompagnano i ragazzi terza cosa facilitare la collaborazione nelle esperienze di tirocino dell'alternanza scuola lavoro della città quarta cosa realizzare dei monitoraggi e delle indagini sugli sbocchi lavorativi del territorio quali sono le figure necessarie a cui le scuole devono formare i giovani per essere poi introdotti nel mondo del lavoro e quinta cosa il tema del placement il tema del placement andando a sfruttare anche quelle che sono le politiche attive penso adesso a Regione Lombardia la possibilità di sfruttare la politica attiva dei gol sicuramente preziosa sicuramente importante accanto a questo poi al potenziamento di quella che è la formazione continua di tutta quella fascia adulta che in questo momento potrebbe essere anche rischillata per essere introdotta appunto nel mondo del lavoro concludo dicendo che sicuramente ad incidere in modo assolutamente decisivo sul successo formativo credo che non sia il metodo bensì la comunità cioè la condivisione da parte della scuola e dell'impresa di una visione comune lo scopo è uno solo quello di introdurre i ragazzi in modo positivo nella realtà e attraverso questo far scoprire il mondo personale così ciascun ragazzo sappia veramente intuire con quale disegno con quale compito sta al mondo questo è il vero cambiamento che il tema della formazione e dell'orientamento credo dovrebbe sollecitare grazie grazie dottor Cristinelli e allora introdurrei l'onorevole Silvia Sardone europarlamentare coordinatrice capogruppo della commissione ENVI e onorevole l'Italia ha un tasso di occupazione femminile del 51% rispetto ai 14 paesi d'Europa che supera il 70% nonostante il nostro tasso di occupazione nei 30 anni è cresciuto del 14% anche tra i giovani tra i 25 e i 34 sempre in Italia se la percentuale di ragazze occupate fosse uguale a quella dei loro coetanei maschi avremmo oltre 600 mila lavoratrici cioè come favorire l'imprenditoria femminile il lavoro femminile che sostegni chiaramente dall'Europa cioè che cosa ha messo in campo l'Europa o cosa effettivamente potrebbe mettere in campo grazie io ti ringrazio Gian Maria è anche un'occasione per vedere vecchi nuovi amici persone con le quali sono cresciuta da bambina ed è un importante momento di confronto per la città l'unica cosa l'orario che noi guardiamo un'ora indietro il concetto se possiamo perché il sesto vuole essere avanti il sesto vuole essere avanti qua con l'orario siamo un po' indietro ecco grazie per darmi la possibilità di fare questa tutta grazie dunque il tema del lavoro femminile e del gender gap oggettivamente è un tema sempre attuale purtroppo vorremmo non parlarne più ma soprattutto io vorrei tanto che queste domande un giorno venissero fatte a uomini e non solo a donne perché normalmente è un cliché che le pari opportunità quando c'è un assessore da mettere le ha la donna se c'è un assessore donna perché ci sono le quote cosa che io non sopporto devono avere più o meno quelle deleghe e quando uno va ai convegni di imprenditoria troppo spesso a parlare di gender gap di occupazione femminile sono le donne quando ahimè oggi nei posti apicali sono gli uomini a decidere e quindi forse questa domanda andrebbe fatta ai maschietti più che alle femminucce dopodiché detto che mi è stata fatta io dico quello che penso e cioè è in dubbio io non nego il fatto che le donne a parità di diciamo di profilo professionale mediamente me lo dicono le statistiche guadagnano meno degli uomini sappiamo perfettamente che l'aspetto di cura e di famiglia è ancora oggi quasi tutto in capo alle donne ecco da me non è esattamente così però ecco dipende dalle tornate elettorali mettiamola così dipende da chi ha la campagna quell'anno però oggettivamente in Italia questo è ancora un tema attuale e poi colgo l'occasione per parlare anche di un fatto culturale oggi in Italia basta guardare le scuole per capire come sarà l'Italia del futuro anche in termini di persone che provengono da altri paesi e che hanno una diversa cultura di riferimento troppo spesso è una cultura di riferimento nel quale le donne non sono alla pari degli uomini e molte donne di queste famiglie non è che non vogliono lavorare non possono lavorare allora io penso che o riusciamo a creare una vera integrazione oppure i dati dell'occupazione femminile nei prossimi 50 anni saranno peggiori di quelli che abbiamo oggi nonostante quello che stiamo compiendo anche a livello di stato faccio un esempio i nidi gratis fino a 15.000 euro di Ise la regione lo porta fino a 20.000 euro ma quelli sono aiuti che dovrebbero andare alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano o almeno sono in cerca di occupazione se invece diamo questi provvedimenti questi aiuti a famiglie in cui la donna non lavora perché non può lavorare noi stiamo andando a finanziare di fatto una cultura che in termini di occupazione femminile non darà i risultati che noi vogliamo ma si creerà l'esatto opposto dato che sono qua a sesto voglio chiudere però il mio intervento anche parlando di un altro tema questa da sempre era la città delle fabbriche era la città operaia per questo era anche la Stalingrado d'Italia oggi non è più nulla di tutto ciò è cambiata e secondo me quella che sarà la città della salute può essere una grande opportunità per dare una nuova identità alla nostra città per questo so che l'amministrazione sta lavorando diciamo assiduamente a questo scopo con tanta fatica ma credo che comunque quella sia una grande opportunità credo anche che le piccole e medie imprese però siano quelle che tengono da sempre in piedi del nostro paese e c'è ancora tanto lavoro da fare per loro in termini non solo di tasse ma anche di burocrazia io ho avuto per anni una partita IVA quindi in qualche modo so che cosa vuol dire so anche cosa voglia dire affrontare la maternità con una partita IVA non è proprio non è proprio le stesse tutele non è proprio facile allo stesso modo non è un caso che diciamo io o Barbara che vedo qui praticamente due giorni dopo il parto eravamo già in giro con i bambini anche in carrozzina in tribunale per le cause quindi non è esattamente la stessa cosa e poi c'è un tema importante dato che sono capogruppo nella commissione ambiente che è quella del green allora noi qua siamo a Sesto Sesto fa parte della pianura padana sapete che qui c'è la direttiva sulla qualità dell'aria noi sulla qualità dell'aria abbiamo anzi io ho una posizione molto chiara allora tutti noi vogliamo un'aria più pulita io ho due figli è una banalità non devo avere il cartellino dei verdi per volere un ambiente migliore però io non la voglio come una decrescita felice consigliate la direttiva della qualità dell'aria impone dei limiti che non sono fatti in base a quello che noi mettiamo nell'aria ma è quello che rimane allora dato che noi abbiamo le alpi o ci mettiamo a segarle ipotesi sciocchezza che qualcuno aveva anche detto ma diciamo io sarei per conservarle oppure per la nostra conformazione noi abbiamo un problema proprio di qualità dell'aria indipendentemente dalla nostra fatica nel ridurre le emissioni considerate che la pianura padana rispetto a tantissime altre nazioni europee è più virtuosa in termini di emissioni allora noi per raggiungere i limiti richiesti dall'Europa dovremmo praticamente chiudere il 90% le nostre fabbriche e ridurre dell'85% i nostri mezzi circolanti non so dato che sto parlando a gente che ha imprese non so esattamente che cosa abbiamo in mente che voi possiate fare e come si possa produrre ricchezza in quella che è la locomotrice d'Italia quindi io sono per migliorare la qualità dell'aria ma farlo con buon senso senza ammazzare un'intera economia che poi è l'economia del paese io vi ringrazio per questa opportunità sarò qua ancora ad ascoltare Alessandro poi c'è il coffee break bene allora mi fermo per il caffè e poi vado a volantinare per la campagna elettorale grazie grazie onorevole Sardone e mi dispiace che appunto la dottoressa Giovanna Maveglia segretaria generale confcommercio Lombardia sia andata prendo l'occasione per chiamare qui un componente della consulta ma è anche vicepresidente dell'associazione imprenditorio di Nord Milano per un saluto è un'associazione con cui Sesto collabora anche se l'associazione è nata a Sesto San Giovanni più di oltre vent'anni fa l'associazione imprenditorio di Nord Milano collabora con l'amministrazione e con la presenza della consulta prego Rocco Bronte un saluto anche possiamo usare anche uno di questi perfetto Gian Maria grazie grazie sindaco noi siamo onorati di far parte della consulta delle imprese e cerchiamo di partecipare a questo tavolo organizzato per dare il nostro contributo l'associazione imprenditorio Nord Milano esiste da quasi ventiquattro anni e quello che fa sul territorio è sicuramente quello di mettere insieme imprese e dare diciamo un supporto alle stesse facendo rete questo è un altro modo di fare rete tra imprese e sicuramente abbiamo toccato dei temi che toccano tutti noi imprenditori io niente non ho vi ringrazio e un saluto da parte di tutta gli NM grazie mille buona giornata grazie a Rocco Bronte darei la parola all'onorevole Colucci per continuare il discorso sulla formazione lavoro e altre cose che vuoi raccontarci grazie ma io credo che sia stato detto molto sul tema del rapporto istituzioni imprese formazione e ragazzi per evitare di ripetermi cerco di toccare solo alcuni punti che secondo me il tavolo della consulta delle imprese ha già concretizzato cioè la possibilità insieme di entrare nel merito delle iniziative che le diverse istituzioni pongono in atto e che tipo di collaborazione si può generare si può creare mi sembra che questo sia emerso su questo tavolo ed è un elemento particolarmente qualificante della consulta e che ci deve far riflettere su mantenere permanente questo confronto e cercare di intervenire in quello che genericamente viene definita fase ascendente uso un termine che l'onorevole Sardone conosce bene perché è quella che viene utilizzata a livello europeo ma diciamo che è la fase lo dico anche per i ragazzi in cui si definiscono le norme in cui si costruiscono le norme su questo particolarmente esperto l'avete sentito la vicepresidente onorevole Cavo perché è un mastino lo dico con la simpatia ma anche con la stima per i ministri i sottosegretari perché ogni qual volta viene fatta una norma alcune cose che abbiamo sentito nell'intervento di Ballabio e di Cristinelli sono state previste dalle norme perché in alcuni casi l'onorevole Cavo è stata un mastino nei ministeri ma questo non deve essere una straordinarietà deve essere la giusta corretta collaborazione che c'è fra l'esecutivo il Parlamento e il mondo delle imprese e dei sindacati che segnalano quali sono le esigenze e le priorità quindi penso che anche oggi c'è stata una testimonianza del valore del dialogo del confronto che noi dobbiamo sempre coltivare e sempre rafforzare per questo è importante vedersi incontrarsi sono straordinari i nuovi strumenti che la maledetta pandemia ci ha consentito avere come il collegamento a distanza ma credo che quando ci si vede ci si incontra è tutto totalmente totalmente diverso la qualità dell'incontro è diversa le relazioni si innescano e io ho molta fiducia di questo tavolo anche per parlare di qualche tema che magari o non è stato affrontato e qua arrivo alle mie conclusioni o è stato semplicemente sfiorato e toccato io penso che la pandemia ci ha dato un trauma sociale straordinario ha creato però l'occasione di individuare strumenti innovativi ad esempio il fondo nuove competenze il fondo nuovo competenze è nato per creare formazione on job quindi i lavoratori nel luogo di lavoro vengono formati ma contestualmente le imprese hanno liquidità risorse a disposizione credo che sia stato uno strumento inventato in un momento di difficoltà ma contestualmente ha permesso di individuare una nuova strada sulla quale dobbiamo proseguire ma proseguire con la semplicità originaria perché come sempre si pensano degli strumenti interessanti e per colpa di pochi si complicano strumenti straordinari perché all'inizio facilmente si attivava il fondo nuovo e competenze oggi è molto complicato attivare perché c'è sempre l'elemento della burocrazia ogni tanto ci si chiede alle imprese perché c'è la burocrazia perché purtroppo c'è qualcuno che quando c'è un buono strumento lo utilizza male e la burocrazia si difende le istituzioni si difendono e creano delle protezioni delle barriere quindi questo strumento deve proseguire ma deve essere abbattuta quella barriera di resistenza nel poter renderlo fruibile a cosa stiamo pensando con l'intergruppo della sussidiarietà intergruppo è un gruppo di parlamentari fatto da senatori e deputati di maggioranza e di opposizione che cercano di fare delle norme durature sto cercando di dare anche un po' soprattutto per i ragazzi di spiegazioni di cosa sono alcuni strumenti l'intergruppo della sussidiarietà sta pensando a sviluppare industria 4.0 industria 5.0 industria e formazione 5.0 perché? perché partendo dall'esperienza del fondo nuove competenze ci si aggancia sullo strumento straordinario uno dei pochi strumenti importanti che sono stati fatti nel paese che è quello di modernizzare l'industria attraverso industria 4.0 sabatini che ha menzionato onorevole cavo ma che deve avere un'evoluzione sia sullo strumento quindi diventa 5.0 aggiungendoci anche il pezzo di formazione un'altra norma che noi abbiamo approvato grazie all'intergruppo sulla sussidiarietà è new cognitive skills sono importanti è importante la formazione di concetti di contenuto che viene fatta ai ragazzi ma è necessario affiancare un aiuto a utilizzare il cervello il ragionamento il pensiero una volta che si hanno le nozioni a metterle insieme avere un pensiero autonomo avere un pensiero ragionato questo è il new cognitive skills che abbiamo già approvato e che ha ancora un iter per completare il suo percorso e nel momento in cui sarà approvato darà una mano ai ragazzi noi dobbiamo pensare proprio sul tema dell'orientamento che i ragazzi non si possono inventare le cose dobbiamo aiutare abbiamo una classe di insegnanti straordinaria che si impegna al massimo con gli strumenti che gli vengono dati bisogna aggiungere strumenti questo è il ruolo che le istituzioni hanno e allora poter dare degli elementi aggiuntivi permette ai ragazzi di sapere che sono degli esseri pensanti che possono determinare il loro futuro in base agli elementi di conoscenza e di competenza devono saper di poterli mettere insieme e devono anche pensare che il mondo è anche un ruolo di grande responsabilità è per quello che io parlavo prima di consapevolezza degli strumenti che si hanno in mano certe volte i giovani quando si leggono alcune notizie sui giornali non sanno che le cose che hanno fatto sono un reato sono una responsabilità non le conoscono perché non c'è conoscenza che il mondo va troppo avanti ed è troppo facile invece utilizzare questi strumenti allora noi dobbiamo dedicarci esattamente su questo ognuno di noi ha figli ha nipoti e spera che i propri figli facciano liceo e l'università ma non è l'unica strada io lo dico ai miei figli non è l'unica strada perché il mondo del lavoro ha bisogno di competenze specifiche nuove straordinarie dove visto che noi siamo convinti che il salario non lo dà un decreto di Stato che è un errore gravissimo dare mentalmente questa idea adesso non porto il saluto che presenta la Camera ma sto portando la mia posizione molto chiara in termini politico istituzionali allora se lo Stato non deve dare il salario deve dare gli strumenti perché i ragazzi i giovani possano inserirsi in un mondo di lavoro che ha bisogno di tante competenze e che non riesce purtroppo a trovarle addirittura oggi ci troviamo in lavori che sembrano semplici che sembrano lavori che possono svolgere tutti cartelli al di fuori degli esercizi commerciali scritto cerco commesso cerchiamo personale nei bar e nei ristoranti quanti ne vedete di questi cartelli e uno dice cosa ci vuole fare il commesso e fare il cameriere e ci vuole competenza ci vuole esperienza ci vuole marciapiede ci vuole crescita all'interno dei luoghi dove ci si forma e all'interno delle imprese in questa collaborazione che si deve generare su cui bisogna assolutamente insistere allora le tante osservazioni che sono arrivate io credo che siano preziosi anche per modificare gli strumenti intanto salutiamo il senatore Sisler che ci ha raggiunti soprattutto per capire come aggiustare in quel concetto di ascendente cioè in quel concetto in cui si possono migliorare e modificare le norme e faccio un esempio sul PNRR perché poi credo che tante volte vengono strumentalizzate le politiche le iniziative purtroppo c'è la corsa ve lo dico rispetto alla credibilità della politica utilizzare ogni occasione per speculare elettoralmente ciascuno di noi per carità appartiene ai partiti e fa campagne elettorali ma quando c'è di mezzo la vita delle persone bisogna essere seri quando si è parlato di PNRR che si ventilavano ritardi lasciate perdere la partenza il PNRR è uno di quegli strumenti per cui tutto il paese deve tifare perché non l'abbiamo iniziato noi lo stiamo portando avanti ci sarà qualcun altro che lo completerà ma è uno strumento straordinario 194 miliardi a disposizione del paese ma che siccome spesso capita con gli strumenti europei non sono basati su dei criteri di utilizzo di risorse adeguate alle caratteristiche del nostro paese non servono a niente quante volte con le nostre esperienze istituzionali abbiamo capito e scoperto che delle risorse europee non erano applicabili su una fattispecie come il nostro paese perché l'Europa è grande è diversa ha caratteristiche differenti cosa abbiamo fatto noi col buon rapporto che bisogna avere con le istituzioni europee perché è importante che l'Italia sia forte in Europa e che l'Europa sia forte grazie a un paese come l'Italia abbiamo convinto a cambiare i criteri di utilizzo del PNRR dei criteri per adattarle all'Italia perché l'Italia è diversa dalla Francia dalla Germania è diversa dalla Spagna è diversa da altri paesi è qua il concetto il principio dei rapporti fra istituzioni Europa Parlamento Governo con le parti sociali imprese sindacati mondo della formazione e cercare insieme anche grazie alla consulta delle imprese di Sesso San Giovanni insieme di identificare la strada per essere utili vi dico non per fare il compitino troppe volte nel passato le istituzioni hanno fatto il compitino faccio un esempio la NIS 2 che tutti dicono cos'è la NIS 2 la NIS 2 è uno strumento normativo europeo pazzesco di cui l'onorevole Sardone sicuramente ne ha molta più conoscenza di me che calerà pesantemente sulle imprese no? che impatto avranno sulle imprese la NIS 2 l'adattarsi sull'aspetto informatico e digitale enorme pazzesco allora noi non dobbiamo fare una norma per dire all'Europa l'abbiamo fatta non ci mandare in infrazione perché così siamo a posto abbiamo fatto il compitino e nessuno ci fa le multe il problema non è l'infrazione che può pagare lo Stato il problema è far applicare la NIS in anticipo ad esempio l'intergruppo sulla cyber security che io ho voluto creare stiamo lavorando su questo per cercare di dire alle imprese guarda che ti devi adattare ti devi adeguare e noi come Stato non dobbiamo fare il compitino di prendere la norma europea e applicarla ma cercare di adattarla al contesto italiano che è la stessa cosa del tema della sostenibilità il bilancio di sostenibilità lo dico ai ragazzi abbiamo bisogno nel paese di persone che sappiano fare il bilancio di sostenibilità che è uno strumento che se non ce l'hai in alcune aziende quell'azienda non sarà più fornitore di aziende americane di aziende tedesche di aziende francesi e il bilancio di sostenibilità tra poco diventare una cosa necessaria se non ce l'hai sei fuori dal mercato allora è questo che noi dobbiamo esattamente fare non volevo andare troppo lungo ma mi sembrava importante completare visto che mi hai dato questo onere ma anche onore di concludere questa fase di primo tavolo di valutazione quello che noi dobbiamo fare è cercare di rendere e così la politica e le istituzioni diventano credibili armonioso tutto ciò che è previsto dalle norme europee applicarla adeguatamente in Italia dialogare con le regioni con i comuni con il mondo dell'impresa per cercare di rendere tutto questo non una mera imposizione che certe volte uno quando la guarda dice ma questi mondi tra di loro non si parlano ma che ci siano le condizioni in un sistema complesso come il nostro di lavorare nell'interesse del territorio perché se il lavoro o soprattutto il salario lo dà un decreto dobbiamo far lavorare le imprese e i professionisti facilitandogli la vita e cercando di far capire che le istituzioni invece da questo punto di vista sono vicine e puntano su chi dà sempre che la ricchezza noi siamo convinti di un aspetto e concludo che un euro che si dà alle imprese in genere produce molto di più di quell'euro ed è quello su cui noi dobbiamo puntare perché se lo si dà in assistenzialismo si crea una cultura sbagliata che guardate che in Sud America sta creando disastri perché quella cultura radicata nella mentalità delle persone andate a vedere cosa sta succedendo in tutti i paesi del Sud America c'è il disastro non c'è il controllo sociale e c'è ansia e preoccupazione perché si pensa che il mondo vada avanti da solo senza le competenze senza le gambe e il cervello degli uomini noi dobbiamo esattamente puntare sulle persone e sulle imprese credo che sia la chiave di successo che insieme alla consulta delle imprese possiamo rafforzare migliorare con le tante cose fatte ma con le moltissime ancora da fare che se le studiamo insieme le possiamo fare nel migliore dei modi grazie onorevole Colucci saluto intanto il senatore Sese ma ci accompagnerà anche nella seconda parte quindi lo ringrazio e faccio notare l'onorevole Sardone che noi siamo efficienti a sesto siamo avanti quindi l'orario è a posto è una battuta per carità ecco saluto anche la consigliera comunale di Milano Padalino Maria Angela grazie di essere venuta c'è una grande collaborazione che inizierà anche sulla questione chiaramente del commercio l'onorevole Silvia Sardone è anche consigliere comunale a Milano quindi abbiamo un piccolo progetto che vedremo di poter portare avanti ecco ringraziando i parlamentari intervenuti oggi devo toglierlo dal cuore perché c'è la luce intervenuti oggi non posso che affidare a voi una sfida che parte sì da lontano ma che ha posto la sua massima evidenza in questo ultimo anno trascorso come presidente della consulta delle imprese di Sesto San Giovanni le imprese devono riappropriarsi della propria missione ovvero fare impresa essere creare lavoro sostenendo un PIL pro capite al pari del nostro prestigio internazionale per fare ciò necessita che ci sia un rapporto chiaro nella relazione tra pubblico e privato rispetto delle norme non del consenso un rapporto pretendendo più flessibilità legislativa se questa porta a maggiori risultati economici per il paese Italia le imprese hanno coraggio conoscenza disponibilità ma manca una cosa sostanziale fondamentale la parola impresa all'interno della costituzione italiana all'inizio l'onorevole Colucci ha indicato l'articolo 1 e l'articolo 4 ecco io voglio andare sull'articolo 4 e ne era convinto il primo promoter il senatore Sergio Travaglia grande leader di Unilever e lo era convinto anche Silvio Berlusconi con le sue imprese e anche nella sua vita chiaramente politica e ne siamo convinti anche noi che la Repubblica Italiana invece di essere fondata sul nobilissimo lavoro fosse fondata sull'impresa fosse fondata sull'impresa il nostro PIL pro capite sarebbe più elevato proprio al pari del nostro prestigio internazionale un primo passo è stato fatto dal Ministero delle Attività Produttive affiancando al Ministero il Made in Italy ma ciò non basta non basta è necessario inserire all'interno dell'articolo 4 della Costituzione italiana la parola impresa nella sua intiarezza nella sua concretezza nel suo significato e con contesto storico e attuale affido a voi parlamentari il così per portarlo nel dibattito delle aule parlamentari questo impegno questo giusto riconoscimento che deve essere fatto all'impresa all'interno dell'articolo 4 grazie a nome mio della consulta e di tutte le imprese italiane vi consegno chiaramente questa pergamena con sull'articolo 4 grazie grazie a voi bene così e in questo momento possiamo andare facciamo la foto insieme poi dopo di che mi sembra così carina perfetto non è volatino è una pergamena è una fa più pergamena grazie grazie bene adesso c'è il coffee break gentilmente offerto da Renault ringrazio la famiglia Bolciaghi ringrazio anche il nostro componente Tiziano Galastro pregoci ritroviamo qui intorno tra un quarto d'ora 20 minuti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie iniziamo con la seconda parte iniziamo con l'assessore Antonio Lamiranda delega urbanistica e infrastrutture tre aree sono interessante che proietteranno Sesto in un futuro tecnologico e di avanguardia Falc Vulcano e Marelli e ringrazio che sono presenti anche i sviluppatori chiaramente di Varallo Re Milano Sesto Redo Heinz Coima cosa ci sarà di produttivo nelle aree interessate e parlando appunto di servizi di mobilità perché noi avremo sicuramente bisogno e necessità per i prossimi anni all'interno del PGT Sestese e prego do la parola all'assessore Lamiranda grazie grazie buongiorno a tutti anche da parte mia sempre nell'ambito dell'amministrazione vi pongo una domanda abbiamo sentito dai vari stakeholder dai vari portatori di interessi il fabbisogno delle aziende che cosa ci chiedete che cosa chiedete fondamentalmente una semplificazione della burocrazia una semplificazione fiscale avere operai specializzati avere opportunità di crescita di sviluppo dell'azienda ma fondamentalmente vi chiedo come è possibile arrivare a questa a questa soluzione qual è lo scenario lo strumento attraverso cui in un territorio è possibile dare queste risposte è un acronimo PGT piano di governo del territorio è quello strumento urbanistico previsto dalla regione Lombardia che consente alle amministrazioni territoriali di sviluppare e programmare il proprio futuro è un piano di norma quinquennale con possibilità di proroga di altri cinque anni ma non è che poi scaduto non si usa più continua a essere utilizzato Cinisello sta da poco avviando anche lui la sua rivisitazione e quale cosa consente questo strumento in realtà di pianificare a 360 gradi il proprio territorio e di dare risposte a tutti i portatori di interesse dall'istituto Salesiani non solo in termini di dargli una prospettiva di dove orientare i propri studenti legandoli al territorio ma più banalmente se deve ampliare una struttura del proprio edificio è necessario avere un piano di governo e delle regole urbanistiche che siano in grado in quel momento di dargli immediatamente una risposta e non che debba costringerlo a farmi e a formularmi un'istanza di variante specifica solo per quel piccolo ambito ed è quello che abbiamo fatto subito e su questo io sarò sempre grato al sindaco di Stefano che ha avuto fiducia e mi ha seguito in questo di aver programmato e riprogettato la città eravamo una città ingessata da questo punto di vista dove non si poteva fare niente vi porto un esempio tipico così che possiate capire la gabioneta ex gabioneta fu una battaglia in consiglio comune quando all'epoca ero all'opposizione l'amministrazione di allora decise di mettere un vincolo su gabioneta dicendo non potrà mai essere trasformata dovrà rimanere la città delle fabbriche del lavoro dell'operaio in un viale casirachi in una situazione industriale dove gabioneta nella nuova proprietà ha chiaramente sempre detto io non sono più in grado di rimanere in quella realtà a produrre devo delocalizzare o mi date la possibilità su un altro ambito del territorio di delocalizzare o io vado altrove alla fine cosa è stata la risoluzione è andata altrove e noi ci troviamo da dieci anni un immobile fermo che blocca la città e non abbiamo nuovi posti di lavoro allora qual è stato ad esempio e qual è il compito dell'amministrazione che ci siamo dati ad esempio su questa realtà abbiamo dato la possibilità di convertire ma non è una conversione ad hoc per solo questo tipo di edificio su tutto il territorio applicando un principio molto semplice non siamo noi che determiniamo la funzione è l'investitore che la decide noi stabiliamo le regole attraverso cui si può arrivare a quella trasformazione e quindi garantiamo attraverso queste trasformazioni di perseguire l'interesse generale l'interesse pubblico che in che cosa si introduce l'interesse pubblico può essere nella formazione cioè mi crei spazi luoghi pubblici o privati di interesse generale dove io posso fare formazione dove io posso fare anche altri tipi di attività formative parallele alla scuola e all'istruzione idest ricerca tu fai l'investimento che ritieni se ritieni residenziale lo fai residenziale se lo intieni terziario lo fai terziario se lo intieni produttivo lo fai produttivo non sono io che determino questa regola perché è il mercato che deve regolare automaticamente questo meccanismo io devo tenere un equilibrio un bilanciamento nel PGT comunque si viaggia con un bilanciamento che è quello che è cioè quell'operatore che è quello della regola aurea dei piani di trasformazione 60% residenziale 40% il territorio deve essere occupato da altre funzioni di interesse generale dal produttivo al terziario a qualunque altro genere ricettivo e qualunque altro questo è il meccanismo e questo è stato possibile perseguirlo attraverso la funzione dell'indifferenziata funzionale cioè noi non attribuiamo nessun valore DSL specifico all'edificio è l'imprenditore che di volta in volta attribuisce il valore all'unità negoziale che deve trasformare o che deve realizzare ma non bastava questo perché questo ha governato e governa le trasformazioni delle nuove aree o degli edifici esistenti occorreva anche sfruttare quello che era al momento perché la pianificazione di un PGT non è una cosa semplicissima siamo partiti nel 2018 abbiamo concluso l'iter nell'aprile 22 quando è stato pubblicato sul Burl quindi abbiamo avuto un lungo iter perché è necessitato anche la questione è arrivata anche dal bisogno di dover prima ascoltarvi e abbiamo fatto un lungo percorso di ascolto e se poi quando abbiamo promulgato il PGT non abbiamo avuto quasi nessun ricorso al TAR sarà pur significativo che abbiamo fatto un buon lavoro sul territorio ma l'altra funzione che ha avuto il PGT è quella di prevedere e progettare la Sesto Futura quale futuro per Sesto io uso un altro acronimo che è Sesto Futura l'abbiamo già disegnata è quello che abbiamo sentito da alcuni interventi quando c'è stata l'onorevole Colucci dallo stesso sindaco e cioè di dare un'identità a questa città l'abbiamo già data in realtà non la stiamo costruendo la stiamo realizzando che è una cosa diversa ma l'identità è già stata tracciata a questa città e la città che guarda al futuro è quella del distretto della ricerca sanitario dello studio del sapere quello è il futuro di Sesto San Giovanni non ci sono altre alternative noi siamo passati da una città che eravamo sicuri che rimanesse sempre quella la città industriale nel giro di un decennio è crollata quella città e per 20 anni è rimasta immobile incapace di trovare una soluzione ferma ancora gli stereotipi del mondo del lavoro legato a questo tipo di attività senza vedere al tempo stesso che c'era una dinamica in corso già nel mondo del lavoro di trasformazione e noi grazie a Dio devo dirlo grazie alla sapienza del presidente Formigoni che all'epoca individuò nel percorso di rigenerazione delle strutture pubbliche l'area di Sesto di Smessa delle aree Falc come un punto centrale e fondamentale per la sanità pubblica qual è adesso stato il nostro compito quando siamo arrivati assicurarla e garantirla e costruire intorno a questo a questa struttura che ricordo l'ha detto il sindaco solo di investimento per realizzare questa struttura sono tra la struttura e la scuola di specializzazione perché ci si dimentica che attaccata alla città della salute e della ricerca ci sarà anche il post-università di specializzazione che sono un altro edificio totalmente autonomo complessivamente sono 500 milioni di investimento pubblico 500 milioni di investimento pubblico e in questo momento sul territorio in quelle aree al di là delle vicissitudini di cambi di proprietà è l'intervento pubblico che sta facendo la locomotiva stiamo trasformando la stazione a ponte e sta ed è in corso la realizzazione di città della salute perché il cantiere voi non ve ne state rendendo conto ma è in itinere è in itinere da luglio a maggio probabilmente organizzeremo un sopralluogo per far vedere i primi risultati concreti stavo dicendo intorno a questo abbiamo costruito la città la città del sapere dove abbiamo vincolato che che se ne dica l'università degli studi di Milano nell'ambito delle aree Marelli avrete qualcuno avrà letto avrete sentito che c'è un'ipotesi di dismissione in realtà da un recente colloquio che abbiamo avuto con il rettorato è stata confermata la volontà di rimanere in quella ubicazione per la semplicità del raggiungimento della sede Duomo via festa del perdono Sesto Marelli 15 minuti di metropolitana non c'è nessun'altra sede dell'università di così facile accessibilità perché il MIND ci vogliono 45 minuti e molti docenti ovviamente manterranno per cattedra di prestigio via festa del perdono ma dovranno andare a fare lezione al MIND 45 minuti per andare al MIND con i mezzi un quarto d'ora per venire a Sesto San Giovanni e questa è la chiave di lettura che bisogna fare quando si fanno gli investimenti e stavo dicendo abbiamo costruito quindi la rete la rete che cosa consiste nel prevedere la possibilità di fare con facilità gli studentati perché il sapere si porta e la rigenerazione di un territorio si porta attraverso i giovani non si formano ma si costringono in qualche modo li si portano anche a stare sul territorio se io creo le strutture devo anche dare la possibilità di venire a studiare ed è quello stato uno dei motivi già ce ne sono due in corso di realizzazione che si sommano a quello che già avevamo siamo in trattative per avere un quarto studentato e ovviamente vorremmo realizzarne anche uno sulle aree Marelli dove abbiamo degli spazi ad hoc dedicati insieme a questo ovviamente abbiamo dovuto pensare al tema delle infrastrutture ed è qua che mi riallaccio a quello che mi viene chiesto ovviamente dal presidente l'infrastruttura è importantissima il nodo infrastrutturale è importantissimo noi come modus operandi abbiamo ragionato in questi tempi MIND città della ricerca dello sviluppo Sesto città della ricerca e dello sviluppo abbiamo già previsto nel piano della mobilità generale della provincia abbiamo fatto inserire una linea di collegamento diretto MIND città della salute stazione Sesto FS Sesto FS l'abbiamo visto come deve diventare un hub regionale di interscambio non basta sufficientemente non è solo un passante deve diventare anche una stazione di testa di alcune situazioni particolari lavoreremo anche con Trenord per arrivare a farlo anche stazioni di testa per i collegamenti con la Malpensa perché non ci si collega solo dalla parte bassa verso Cadorna ci si può collegare anche dalla parte alta verso Saronno passando per Monza ed è uno degli obiettivi che ci poniamo da questo punto di vista quando avremo Città della Salute perché voi dovete pensare a Città della Salute come un volano materiale non solo degli operatori 5.000 persone che operano tra le due strutture che verranno a lavorare a sé tutti gli utenti ahimè che ci saranno della struttura ospedaliera e soprattutto il mondo dello studio perché se è vero come è vero che stiamo lavorando per portare qui anche l'Università di Medicina prevede l'Università la Facoltà di Medicina prevedono 5.000 studenti da qualche parte questi studenti dovranno essere allocati dovranno risiedere e insieme a questo ovviamente poi c'è un sistema di sostenibilità il sistema dei parchi e delle piazze allora l'altro giorno parlando con alcuni si sosteneva alcuni mi contestavano e dicevano ma inizieranno le grandi trasformazioni come sempre poi all'ultimo arriveranno il verde le strade eccetera no no perché noi abbiamo messo delle regole completamente diverse ad esempio lo sanno bene le proprietà delle aree FALC la condizione per continuare ad andare avanti a sviluppare le aree è la realizzazione contemporaneamente di parti del parco per noi ad esempio è un asset fondamentale lo sviluppo di aree Unione in questo momento ma aree Unione può svilupparsi contemporaneamente alla creazione del primo pezzo del parco che è quello che farà da cintura a città della salute che si chiamerà ovviamente parco Unione e che sono circa 10 ettari di parco non è cosa da poco perché nel momento in cui io trasformo una città devo già renderla accogliente siamo abituati a vedere vecchie trasformazioni dove vediamo in cominciare a costruire i palazzi in cominciare a vedere la gente che va dentro in enormi disagi non vedono la città costruita la città va prima costruita e poi va consegnata ai cittadini a chi la deve utilizzare e questa è la filosofia che abbiamo un po' invertito nel nostro modo di operare e in questo abbiamo creato anche la rete della sostenibilità dei corridoi ecologici cioè cerchiamo nella pianificazione chi avrà voglia di andarsela a vedere un po' le nostre tavole del PGT vedrà anche la creazione di questi corridoi verdi cioè la messa in rete del sistema dei vari parchi che già esistono e quindi di creare dei percorsi attraverso la città che siano dei polmoni verdi tra virgolette nel senso che abbiano comunque e diano l'idea di una continuità all'interno della città cioè che cos'è l'inversione che poi uno vedrà o potrebbe potrà vedere dall'alto e avere l'impressione non che ci sono i parchi che entrano nella città ma che si è avvertito l'addendo cioè è la città che in parte è entrata all'interno di un'enorme area verde e questo è un cambio di passo se considerati in una città come Sesto San Giovanni che è stata ed è fortemente urbanizzata l'82% del territorio sestese è occupato da costruzioni nella pianificazione che abbiamo fatto abbiamo cercato di ritornare indietro invece abbiamo bloccato ovviamente il consumo di suolo e abbiamo premiato quegli investitori che nelle trasformazioni ci cederanno area verde ci cederanno area a piazze perché questo è l'elemento fondamentale attraverso quale strumento molto semplice quello della verticalizzazione perché ci sono solo due alternative quando c'è una superficie edificabile per poter realizzare questo ritorno alla città e alla collettività di spazi aperti di spazi pubblici consentire la verticalizzazione ciò che fino ad oggi non era possibile fare a Sesto San Giovanni noi per assurdo andiamo a proporre delle siamo siamo pronti ad avere delle novità che saranno veramente importanti per Sesto San Giovanni se pensate i primi edifici che adesso verranno realizzate sull'area Falc parliamo di edifici che supereranno tutti abbondantemente i 50 metri i 60 metri ma noi abbiamo l'ardire di andare oltre abbiamo due proposte di intervento che le chiamiamo le torri faro che arriveranno a 90 metri certo ci vuole tempo per pianificarle e realizzarle ma saranno dei capisaldi ed è un segnale preciso per restituire poi alla città tutto quello che c'è intorno perché è una concentrazione di volume in verticale non è un volume che non esiste è un volume già esistente debbiamo solo dare la possibilità di poterlo creare e sviluppare in un modo diverso è quello che poi ci sarà sotto se voi ci pensate bene è quello dove noi quotidianamente andiamo a vivere se io ho verticalizzato un SL una superficie abitativa per 100 metri ma io quando sto alla mia altezza viso ho tutto lo scenario libero e aperto secondo voi che tipo di città io sto vivendo una città vivibile sostenibile o una città che mi sta opprimendo dai grattacieli è una città invece che per me cittadino che sto ad altezza uomo la vedo sostenibile non mi rendo conto di quello che ho sopra di me perché ce l'ho davanti ai miei occhi e consentire a un cittadino di poter vivere la propria città senza dover trasmigrare ogni volta in altre realtà per poter avere i servizi e avere anche altre funzioni che non siano i servizi di base ma anche quello che siano legati al divertimento e al passatempo io credo che sia la migliore soluzione che un'amministrazione che ha visione perché poi non dobbiamo solo limitarci a regolare il quinquennio o il decennio ma dobbiamo mettere in pista un futuro per Sesto San Giovanni che sia nei secoli e sicuramente trasformare la città e investire sotto il piano della sanità della ricerca e dello studio sono i tre capisaldi che ciascuno di voi conoscendo le varie realtà territoriali della nostra Italia verrà a confermarmi che dire una volta che hai messo un ospedale un'università e degli studentati non ci sarà mai nessun altro sistema economico che riuscirà a smuoverli perché rimarrà sempre l'ospedale rimarrà sempre l'università e rimarranno sempre gli studentati e quando hai queste tre cose hai un territorio che rimane vivo e veci grazie 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 assessore la Miranda così abbiamo sviluppato anche una parte dell'urbanistica quindi la collaborazione con la consulta delle imprese è una cosa che appunto va avanti quindi non solo con i governanti non solo con la regione ma proprio all'interno chiaramente del nostro territorio adesso lascerei la parola al senatore Sisler per riprendere poi una discussione su quello che potrà essere la giustizia e quindi far intervenire anche le associazioni e i sindacati il senatore Sandro Sisler vicepresidente seconda commissione permanente di giustizia criticità sui processi di giustizia mentre necessita celerità sulle vertenze di lavoro sotto i riflettori in questo momento non solo la commissione ma anche anche chiaramente il ministero per i cambiamenti che ci sono chiaramente in atto sul tema chiaramente importante della giustizia tra imprese e lavoratori bisogna migliorare il rapporto su questo poi chiederò anche i sindacati e sul tema anche della della sicurezza che cosa ha sviluppato in questo anno e mezzo la commissione sul tema effettivamente di giustizia all'interno chiaramente delle vertenze di lavoro e sulla questione sicurezza grazie senatore grazie Gian Maria innanzitutto fammi fare consentimi di farti complimenti per l'organizzazione di questo evento perché mettere intorno a un tavolo imprese amministrazioni locali politiche sindacati è importante soprattutto in un contesto come quello di Sesso San Giovanni ma io direi del Nord Milano dove la trasformazione sociale è stata di fondamentale importanza ed è stata la caratteristica di questo territorio trasformazione sociale anche di lavoro faccio i complimenti poi al bravo Antonio Lamiranda ma non lo scopro certo oggi che ha dimostrato come l'amministrazione comunale di Sesso San Giovanni non solo ha guidato ma intende continuare a guidare questo tipo di trasformazione la trasformazione sociale lui l'ha dispiegata bene dal punto di vista edilizio urbanistico ma con le caratteristiche appunto che deve avere una trasformazione una trasformazione che si rende conto del contesto storico in cui si trova e cerca di adeguare una città certo compito non facile perché le città sono paragonabili degli esseri viventi quindi vanno contestualizzati gli interventi e va compreso qual è l'intervento migliore in quel determinato contesto in quel determinato periodo storico quindi faccio i complimenti anche ovviamente ad Antonio al sindaco di Stefano l'ho ringraziato gli ho fatto i complimenti prima iniziative come queste servono appunto a guidare la trasformazione e una giusta ricollocazione di quelli che sono i soggetti che fino a ieri magari svolgerono una determinata attività professionale e da domani e da dopodomani ne dovranno svolgere un'altra pensiamo alla rivoluzione della digitalizzazione prima con Antonio immaginavamo di organizzare un convegno sulla digitalizzazione nella giustizia e in particolare sulla digitalizzazione dei processi il cosiddetto processo telematico che è una delle iniziative che abbiamo in corso in Parlamento e utilizzeremo e lo faremo a sesto giusto Antonio quindi anche per far comprendere quali sono i nuovi sviluppi e le nuove frontiere del lavoro per ciò che riguarda invece le domande che mi hai posto Gian Maria qua il tema è abbastanza semplice secondo me allora è chiaro e sotto gli occhi di tutti che uno dei problemi in Italia è la lentezza dei procedimenti e dei processi non a caso uno degli obiettivi del PNRR che è stato posto all'Italia è quello di accelerare questi processi questi procedimenti in qualsiasi settore è vero che nel settore del lavoro e di questo possiamo rendere se ne rendiamo conto tutti i professionisti imprenditori chi ha l'onere di dirigere aziende gode di un procedimento accelerato tant'è vero che si cerca di trasferire questo processo accelerato che è quello che caratterizza il processo del lavoro del diritto del lavoro anche sui processi civili con qualche difficoltà perché ovviamente poi ogni tanto gli avvocati Antonio anche un avvocato lo sa si lamentano queste accelerazioni comportano poi degli oneri per i professionisti e non sempre hanno delle ripercussioni positive sul cittadino quindi dicevo dal punto di vista della giustizia esiste già un procedimento accelerato che è quello del diritto del lavoro e cosa bisogna fare però per aumentare la sicurezza sotto gli occhi di tutti anche qui i drammi che continuano a colpire i lavoratori nei cantieri in particolare anzitutto secondo me esistono già moltissime norme non bisogna gravare gli imprenditori di ulteriori norme di ulteriori reati perché poi si costituiscono un onere poi queste norme hanno un costo quello che bisogna fare a mio avviso è migliorare i controlli quindi aumentando per esempio gli ispettori del lavoro che vanno sui cantieri a controllare che sono poi le situazioni dove più di tutti capitano infortuni gravi anche mortali quindi aumentare questo numero degli ispettori del lavoro e cercare di semplificare anche la loro attività anche dal punto di vista normativo ripeto introdurre nuovi reati è un a mio avviso è un boomerang cioè non si raggiunge l'obiettivo in Italia esistono una pletora enorme di norme circa 6.000 che riguardano il mondo del lavoro e sfido chiunque a conoscerle tutte 6.000 quindi voglio dire è chiaro che non bisogna fare nuove norme bisogna applicare bene quelle che ci sono non bisogna però dimenticare che la vita è un valore assoluto quindi chi ha chi lavora in contesti di alta possibilità di infortuni deve essere garantito e deve essere garantito anche il controllo quindi ripeto aumentare i controlli aumentare i controlli nei subappalti aumentare i controlli nei cantieri con soggetti qualificati quindi non solo aumentare il numero degli ispettori del lavoro ma anche qualificarli e formarli al meglio cosa può fare la politica la politica ripeto interviene legiferando interviene controllando e interviene anche creando quelle condizioni affinché l'infortunio laddove possibile non c'è una parte fisiologica purtroppo questo è evidente il camionista ha sempre il rischio dell'incidente è chiaro che però se il camionista guida 12 ore al giorno questo rischio aumenta quindi bisogna bisogna anche qui trovare una soluzione anche dal punto di vista del salario della sicurezza e del controllo rispetto al datore di lavoro bisogna bisogna che la politica comprenda facilitando da un lato e supportando l'imprenditore nell'applicare correttamente le norme e dall'altro sanzionando seriamente qualora l'imprenditore è messo nelle condizioni migliori per applicare le norme sulla sicurezza del lavoro non le applico io credo che questo debba fare la politica è anche la politica a livello locale poi ripeto la collaborazione col mondo sindacale con i rappresentanti dei lavoratori in generale con i lavoratori stessi ma anche con gli imprenditori deve essere dinamica non ci si può fossilizzare su una norma bisogna far sì che i rapporti continui nello scambio di opinioni continuano anche per poter affrontare quelle che sono le insicurezze che derivano dai nuovi modelli lavorativi parleremo anche di cyber sicurezza parleremo insomma di tutta una serie di questioni che le nuove tecnologie digitali di informatiche ci costringeranno ad affrontare perché la sicurezza è quella della salute ma la sicurezza più generale è anche quella ad esempio della difesa della privacy della tutela del lavoratore pensate cosa significherebbe se un lavoratore dovesse essere posto in una situazione di difficoltà perché ad esempio viene resa nota una sua problematica di salute o perché vengono rese note le sue problematiche private che costringono quindi a subire questo lo dico perché è capitato purtroppo ricatti da parte del datore di lavoro ecco allora bisogna intervenire in tutte quelle nuove tutti quei nuovi ambiti che caratterizzano le nuove frontiere del lavoro lo bisogna fare collaborando con tutte le forze sociali in campo datori di lavoro sindacati in genere rappresentanti dei lavoratori e politica anche locale rimango qui casomai ci fossero degli altri interventi che necessitano una risposta grazie Gian Maria grazie senatore molto efficiente sì sicuramente ci saranno poi dei studenti a cui chiederò alcune domande e quindi magari a livello anche di Parlamento possiamo dare delle risposte io a questo punto introdurrei le associazioni prima ha parlato appunto l'associazione a Solombarda adesso è la volta di Fabrizio Gironi presidente territoriale di Confcommercio di Sesto San Giovanni cui ringrazio mi è dispiaciuto prima non far dare i saluti a Giovanni Maveglia che è segretario però comunque mi sembra che il fatto di essere qua presenti sia comunque un segno che questa consulta chiaramente è importante anche per voi e come diceva Carlo Sangardi che è il presidente che io ho conosciuto quando avevo ancora i pantaloncini corti nel gennaio del 2023 ha lanciato un vademecum su su quello che ci sarà da fare come innovazione delle imprese come diffusione che renta della cultura sostenibile e miglioramento dell'efficienza energetica e per finire incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile ecco come Confcommercio come pensate di attuare qui a Sesto San Giovanni io vi do alcuni dati di Sesto così entriamo anche un po' anche nel merito di Sesto San Giovanni le sue imprese e i suoi addetti allora addetti alle imprese diciamo che a Sesto San Giovanni ci sono 25.174 persone imprese attive al giugno del 2023 diciamo sono 5.481 quindi in aumento rispetto effettivamente agli anni precedenti noi abbiamo qui una popolazione al 31-12-2022 di circa 80.524 abitanti di cui forza lavoro occupazione che va dai 15 ai 29 sono 12.126 e dai 30 ai 65 sono 38.325 ecco lascio a lei questa 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 questo scenario per poter chiaramente dire che cosa può fare chiaramente Confcommercio e le sue associazioni vicine grazie grazie a voi porto i saluti di Giovanna Maveglia che purtroppo per impegni sovrapposti ha dovuto lasciare la nostra riunione e anche i saluti del Presidente Sangalli che ricordo soprattutto ai più giovani è stato Presidente di questo mandamento ha cominciato la propria carriera sindacale come Presidente nel mandamento di Sesto San Giovanni pertanto i suoi auguri per l'ottima riuscita di questa di questa prima conferenza e un saluto particolare essendo lui nel cuore questa città come come Presidente allora Confcommercio piccola premessa chi è Confcommercio cosa fa allora Confcommercio è un'associazione territoriale io rappresento Sesto San Giovanni che comprende anche Cinisello Balsamo Cologno Monzese e Vimodrone svolge un ruolo attivo e concreto a sostegno delle imprese di categoria del nostro territorio è il punto di riferimento per le imprese che hanno sede in questi grandi comuni nell'Interland milanese purtroppo in questi anni abbiamo avuto una profonda crisi del settore del commercio perché come giustamente diceva il Presidente le imprese sono cresciute in questo momento sono assolutamente attive ma nello specifico del commercio purtroppo noi segniamo il passo nel senso che le attività relative a bar ristoranti servizi di alloggio per darvi un'idea sono diminuite di 2334 unità pari a un 13,4% questo dato emerge da un focus realizzato sulla Lombardia su alcuni campioni di capoluoghi di città come Sesto San Giovanni in un'edizione dell'Osservatorio della Demografia d'Impresa realizzata da ConfCommercio in collaborazione con lo studio delle Camere di Commercio qui che cosa si evidenzia? si evidenzia il fatto che a soffrire maggiormente sono i centri storici con una riduzione del 15,9% mentre al di fuori la riduzione del 10,7% questo mi permetto di aggiungere è frutto anche di un retaggio che ci siamo portati a seguito del lockdown dove di fatto molte imprese hanno decentrato grosse imprese hanno decentrato la tipologia di lavoro attraverso lo smart working nelle abitazioni e pertanto togliendo magari dai centri cittadini dove si aveva la sede fisica di molte imprese questo tipo di attività alcune aziende ancora oggi continuano a mantenere in essere lo smart working che se può essere comodo dal punto di vista della gestione del personale da remoto sicuramente sull'economia locale soprattutto nelle attività di impresa faccio riferimento ai pubblici esercizi ha sicuramente un impatto negativo negozi bar ristoranti alberghi rendono senza dubbio le città vive sicure ed attraenti la chiusura delle attività rappresenta non solo una forte criticità per gli imprenditori ma anche per i loro collaboratori ricordiamoci che quando si parla di microimpresa confcommercio al proprio interno sono delle imprese molto spesso individuali si parla di famiglie pertanto quando chiude un negozio è una famiglia che ha la difficoltà non è un singolo imprenditore e i collaboratori che con lui lavorano il fatto di essere vicini alle imprese serve non solo all'impresa stessa ma anche all'economia di tutto il sistema che vive la propria città in termini di sicurezza perché i negozi sono il primo fronte nei confronti della cittadinanza molto spesso lo cito quando faccio degli incontri anche con gli associati in caso di incidente normalmente ci si rivolge a chi? ci si rivolge al primo commerciante che si trova sulla strada per cercare di avere sostegno aiuto e questo è un ruolo fondamentale per la nostra città e per la nostra società ritornando a Sesto San Giovanni nello specifico noi abbiamo una città che ha vissuto e vive profondi cambiamenti come giustamente ci è stato sottolineato negli incontri precedenti economico-sociali oggi ci troviamo in una fase di rinnovamento urbanistico le aree file che sono sicuramente una di queste di questi esempi da portare avanti con quella lungimiranza che l'amministrazione ci sta sottolineando avere all'interno della prospettiva di come arriverà la città nuova così definita in tutte le interlocuzioni da sempre instancabilmente noi chiediamo alla politica cosa quella di sapere ascoltare quelle che sono le esigenze delle imprese e se possibile andiamo nell'utopia anticipare quelle che sono le necessità perché come giustamente veniva sottolineato dall'onorevole Colucci prima molto spesso quando si arriva a portare avanti un'iniziativa si è in ritardo perché il mondo viaggia mediamente più veloce di noi e di conseguenza l'anticipare molto spesso le esigenze diventa una necessità una necessità reale solo facendo rete e oggi ne è un esempio assolutamente positivo e favorevole che noi vediamo con con favore e ci piace molto questa cosa facendo rete fra pubblico e privato si riesce a portare a termine quelli che sono le progettualità diminuendo le ricadute negative sulle imprese acutizzando quelli che sono invece gli aspetti positivi degli stessi perché solamente con la sinergia dello sviluppo tra chi ha la capacità di gestire il pubblico e chi ha la necessità attraverso investimenti privati di portare delle necessità si ottiene nel risultato un esempio di quanto accennato prima lo si può rappresentare dalla vendita online di beni e servizi da interpretarsi quale strumento ulteriore di vendita un'opportunità e non un fenomeno alla quale opporsi non si può fermare il cambiamento il cambiamento bisogna cavalcarlo cavalcarlo significa avere la capacità avere la formazione che gli istituti possono dare ai nostri giovani per poter inserirsi all'interno delle aziende diventare leader di queste aziende stesse portando la propria capacità la propria innovazione la propria voglia di crescita molte imprese oggi hanno anche un problema di ricambio generazionale il ricambio generazionale lo si può ottenere solamente inserendo volontariamente delle persone che hanno l'idea di costruirsi un futuro autonomamente nel caso dell'impresa oppure gestendo delle imprese portate avanti da generazioni precedenti questo secondo noi può essere la visione che il mondo deve avere un mondo dell'impresa e il mondo della finanza locale per quanto riguarda ConfCommercio in realtà noi abbiamo all'interno del nostro sistema la presenza di diversi sportelli che possono agevolare questo tipo di sistema abbiamo uno sportello per le nuove attività e gli aspiranti imprenditori e pertanto c'è la possibilità di fare una valutazione prima di cominciare l'impresa se questa impresa può avere un senso è possibile anche ipotizzare un business plan per capire se l'impresa che si sta pensando di mettere a terra possa avere la sostenibilità nel tempo di portare avanti questa progettualità prima discutevamo anche tra di noi è uso comune di molti genitori io per primo sono un genitore mi rendo conto di quanto il mondo del lavoro possa essere difficoltoso e pertanto l'idea magari di agevolare i nostri figli attraverso l'investimento di un'impresa può essere uno dei motivi per cercare di far crescere i nostri figli all'interno dell'impresa ecco un sistema che anticipatamente ti dice se questa cosa funziona o meno può essere valido perché genitori che hanno sperperato il proprio TFR creando delle imprese per i propri figli che non erano adeguati ai tempi o che semplicemente avevano bisogno di fare altro purtroppo ne abbiamo visti diversi e questa è una cosa che non fa bene a nessuno in primis ai genitori che hanno visto vanificati i propri sacrifici ai giovani perché non hanno realizzato l'impresa che pensavano di fare e all'economia locale che sicuramente ha visto qualcosa di negativo esiste poi un altro sportello che è presente da più di 5 anni che è lo sportello spin che serve per la digitalizzazione dell'impresa giustamente il senatore parlava di un sistema di digitalizzazione di qualche cosa che fa parte del nostro tessuto che è la giustizia noi che viviamo in prima linea la necessità di avere una digitalizzazione dell'impresa serve nella quotidianità nella quotidianità per riuscire a svolgere tutte le attività di rapporto con la pubblica amministrazione o di rapporto tra le imprese stesse che oggi risulta essere ancora abbastanza complesso nonostante la tecnologia stia andando sempre in una visione migliore lo sportello ESG per la sostenibilità dell'impresa l'onorevole Colucci lo diceva prima ci sono delle nuove certificazioni che le imprese dovranno fare per riuscire a confrontarsi e con le pubbliche amministrazioni e con le altre imprese soprattutto quelle estere l'ESG è uno di questi ed è una certificazione che diventerà obbligatoria nella seconda parte dell'anno e che interesserà diversi aspetti delle imprese non ultimo il rating bancario perché so che parliamo di una cosa che sembra fuori dal mondo ma avere una certificazione che mi garantisce un confronto anche nei confronti degli istituti di creditizi può essere sicuramente una cosa positiva e validante tutto questo è possibile solo e se tutti gli attori presenti credono in un futuro che sia di sviluppo sinergico nel senso che tutto quello che si fa lo si deve fare avendo un criterio partendo dalla formazione scolastica che io credo essere fondamentale per far passare ai ragazzi l'idea fin da subito che non esistano scorciatoie le scorciatoie non esistono il percorso va fatto vanno fatti i sacrifici i sacrifici servono a far capire il valore di quello che si sta facendo l'arrivare a un certo livello con il riconoscimento dell'attestazione dello studio prima e del riconoscimento del mondo del lavoro che percepisce la tua formazione come tale e ti inserisce di buon livello dandoti una responsabilità o dandoti un futuro sostenibile io credo che sia il percorso più bello che si possa dare e auspicare a un giovane nella città di Sesto nella Lombardia o nel mondo intero verosimilmente perché è una cosa che ci auspichiamo tutti come imprenditori ma anche come genitori e pertanto credo che questo sia il nostro ruolo ringrazio nuovamente il Presidente per averci dato la possibilità di partecipare a questo tipo di manifestazione ci auguriamo che questa sia la prima di altre che vengono messe a terra e vi auguro una buona giornata grazie 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 la collaborazione con questa amministrazione con la consulta delle imprese sia come qui presenti sia a Salombarda che Commercio anche Comfartigianato è presente all'interno della consulta altri personaggi sono di associazioni sono chiaramente presenti e ci saranno in futuro come ho la visione chiaramente delle imprese quindi una visione positiva di quello che le imprese devono fare altrettanto secondo me sono fondamentali nella vita lavorativa di questa nazione qui in Sesto San Giovanni il discorso dei sindacati e cui ringrazio ringrazio Ricovizia ringrazio la dottoressa Ministro Riviero ringrazio Carlo Gerla che adesso interverranno ecco diciamo che il Senatore aveva introdotto alcune situazioni io ritengo che i sindacati devono essere propositivi nell'agevolare e interessi tra lavoratori e imprese e associazioni di categorie a questo punto quali proposte per Sesto ma visto che io continuo a martellare un po' sulla questione chiaramente giovani quale messaggio inviare ai giovani studenti che domani avranno obiettivo mantenere il paese Italia quindi una cosa non da poco e se poi il più assumi meno paghi può essere sicuramente sostenibile ecco io vi ho dato così una traccia iniziamo con Enrico dottore Ricovizza segretario regionale chiaramente della UIL grazie 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 presidente ringrazio lei l'amministrazione comunale per averci coinvolto in questo appuntamento che noi abbiamo accettato con piacere partecipare a questo momento di confronto perché il sindacato ha un ruolo di confronto continuo indipendentemente nella massimo rispetto delle autonomie dalla politica e dagli schieramenti e comunque il sindacato è uno dei corpi importanti in questo paese ed era importante partecipare perché quando si mette un titolo impresa lavoro sindacati e giovani vorrei ringraziare i giovani che sono stati qui tutta la mattina ad ascoltarci sperando che da questa giornata da questa mattinata riescono ad accogliere raccogliere anche nelle loro idee le proposte quello che può dare questa città e quando il presidente Vincelli mi ha contattato per dire se c'era volontà di partecipare abbiamo espresso subito la nostra disponibilità perché il tema del lavoro il tema dello sviluppo di una città il tema della lezione che ci ha fatto dal punto di vista urbanistico l'assessore nel senso che ci ha illustrato ampiamente il tema di come è stato affrontato nel corso degli anni lo sviluppo di questa città non può dimenticare quello che è stato questa città perché è vero che le trasformazioni di una città vanno affrontate vanno governate vanno gestite e ci devono essere gli strumenti legislativi che supportano ma il ruolo di una comunità locale e degli enti locali non me ne vogliono gli enti superiori regione, province piuttosto che Parlamento io credo che ha un ruolo fondamentale le comunità locali i comuni i sindaci gli assessori perché chi sono? Sono quelli che tutti i giorni guardano in faccia gli imprenditori i lavoratori i cittadini che li sentono e gestiscono e devono gestire i problemi allora il ruolo di una città è fondamentale ma non possiamo dimenticare quello che è stato questa città e credo che il sindaco questa mattina nel suo intervento in modo anche compassione ha voluto ricordare il ruolo di questa città dal punto di vista sociale del lavoro dello sviluppo perché in quelle fabbriche in quell'area che oggi si chiamano rigenerazione urbana che vengono rigenerate ci sono passate migliaia di persone milioni di persone perché hanno lavorato molte persone e hanno fatto sì che da un lato c'è un imprenditore c'è un'impresa che chi lavora chi sviluppa e fa impresa è ovvio che ha un rischio è vero ma ha anche un'opportunità di guadagno dall'altra ci sono lavoratori che devono rientrare all'interno del mercato del lavoro nel massimo rispetto anche delle regole e credo che questa città è una città simbolo per poter mettere al primo punto che quando vogliamo dare ai giovani che sono sì il futuro e bisogna dare degli strumenti perché non dobbiamo disperdere il valore dei giovani che possono ancora dare a questo paese e da questa riunione da questo convegno da questa iniziativa questa mattina io credo che i giovani devono raccogliere il meglio del dibattito che c'è stato e pensare che lo sviluppo di una città di una comunità locale con tutte le opportunità che abbiamo perché oggi si è parlato di PNRR e su questo io credo che è giusto spiegare nel nostro paese sono arrivate risorse che non ha mai avuto precedenti l'Italia di queste risorse come le governiamo come vengono gestite quali sono i progetti che opportunità danno queste risorse che ricadute avranno sul territorio allora ecco che su questo è importante il sindaco ci ha detto di quante sono le risorse assegnate al comune di Sesto aggiungo che quando sono state definite quelle risorse sono stati anche individuati degli strumenti degli accordi che prevedono la costituzione di un confronto continuo anche con le organizzazioni sindacali perché di fatti significa percepire qual è l'investimento cosa produrrà e dal punto di vista della coesione quello che sono anche le opportunità che si darà nei confronti dei giovani e di una città in generale spesso si parla di città sostenibili allora noi dobbiamo comprendere in quelle sei misure che l'Europa ha indicato nell'ambito di quel PNRR piano di ripresa e resilienza che ricadute avranno sul territorio e aggiungo un passaggio che credo che sia anche importante quando parliamo di PNRR ricordare che una parte di quelle risorse che l'Europa ha assegnato la pagheranno quei giovani pagheremo tutti perché sono a debito ma la pagheranno in modo particolare i giovani perché negli anni futuri ci sarà una parte di debito che tutti dovremo pagare ma in modo particolare lo dobbiamo spiegare a loro perché loro un pezzo di quel PNRR lo dovranno pagare a debito e allora dobbiamo far sì che a momenti come questi opportunità delle risorse che ci sono diano una risposta a quell'esigenza quando parliamo di lavoro non possiamo non parlare di mercato del lavoro e ripeto l'imprenditore che decide di rischiare di fare impresa deve essere messo nelle condizioni di poter fare impresa deve essere messo nelle condizioni di lavorare e poter produrre c'ha anche un rischio deve essere anche supportato nei rischi che corre ma deve anche essere cosciente che chi decide di fare impresa e imbarcano all'interno della propria azienda lavoratori rispetti le regole e noi non vogliamo mai fare di tutta l'erba un fascio sia chiaro ci sono fior di aziende e fior di accordi fatte con gli imprenditori che sanno che la loro risorsa sono le maestranze sono i lavoratori sono i giovani e noi con quelle aziende spesso ci confrontiamo ahimè non è tutto così il mercato perché ancora oggi dal punto di vista delle imprese diciamo che è una minima parte diciamo che c'è una parte c'è ancora quella voce che si chiama sfruttamento ecco su questo non lo dobbiamo evitare come lo combattiamo lo combattiamo con quello che sono gli strumenti che ci dà la costituzione la contrattazione il rispetto delle regole il rinnovo dei contratti ma soprattutto percepire che chi fa impresa deve anche stare all'interno di quelle regole e poi c'è anche chi deve lavorare che deve rispettare i propri doveri su questo io sono un sindacalista diciamo ancora non sono sindacalista sono prestato al sindacato perché prima di venire a fare sindacalista ho fatto l'operaio ho fatto il muratore e sono orgoglioso di dire che ho lavorato nel cantiere ho costruito case per oggi essere all'interno del sindacato perché i lavoratori mi hanno eletto a poter fare rappresentante sindacale non ho preso la laurea del sindacalista non c'è quella laurea con tutto rispetto delle lauree però ho avuto questa opportunità di lavorare di operare operare nell'impresa e contemporaneamente poter fare l'attività da sindacalista e oggi mi trovo qui allora non bisogna mai dimenticare che all'interno di quella costituzione è proprio precisato il fatto del rispetto delle regole contrattuali aggiungo e vado a chiudere quando parliamo dei giovani è importante ma ricordiamoci lo ha ricordato prima l'onorevole Sardone che ci sono anche le donne spesso si è parlato che la pandemia il prezzo più alto l'hanno pagato i giovani che erano costretti alla DAD con una enorme confusione e le donne che dovevano tirare avanti la famiglia hanno supportato un peso maggiore ecco quando si parla di diritti di pari opportunità le pari opportunità sono queste quelle non solo di riconoscere il ruolo della donna ma di riconoscere anche che ci sono donne che operano donne che sono all'interno delle aziende donne che anche devono essere favorite nel sviluppare la propria carriera ci deve essere anche un rispetto di quelle persone quindi giovani e donne secondo noi sono il tema sul quale noi dovremmo sempre di più sviluppare perché una società cresce se cresce tutta quanta insieme poi vado a toccare un ultimissimo tema e io credo che con l'occasione di oggi permettetemi di dirlo all'amico presidente Vincelli il comune di Sesto per la sua storia per quello che abbiamo sentito questa mattina per gli interventi che sono stati sicuramente fa e fa già molto perché lo abbiamo sentito può usare passatemi questo termine può usare di diventare il punto di incontro con i vari comuni limitrofi che nell'ambito della consulta si sviluppi sempre di più i temi del lavoro dei giovani e della formazione perché un altro tema importante è quello della formazione io ho ascoltato con piacere quello che diceva l'assessore e lo condivido perché è una società che se non cresce nella cultura è una società che non è destinata ad andare molto avanti quindi la formazione è importante e credo che questo comune può usare per la sua storia di essere il punto di riferimento in un momento in cui la città metropolitana è un po' confusa quindi avremo bisogno anche di rilanciare quei temi ma ci ritorneremo tra due giorni in un convegno sulla città metropolitana per spiegare che per noi deve avere un futuro credo che il comune di Sesto per la sua storia per il lavoro che sta facendo può diventare un interlocutore su questo territorio di coordinamento con le varie funzioni chiudo davvero ringraziandovi ancora e dicendo che siamo disponibili al confronto lavorando anche su quei tavoli col sindacato perché il sindacato non è solamente quello che disturba nell'azienda noi tentiamo mai di disturbare tentiamo di confrontarci e di affrontare le sfide che ha da un lato l'imprenditore dal lato che sono i lavoratori dal punto di vista del rispetto dei diritti e dal punto di vista anche umano chiudo davvero su un tema e quando parlavo di città metropolitana non ne abbiamo parlato oggi non c'è stato questo magari è sentito meno a Sesto ma si sente in tutta la città area metropolitana c'è un tema che si chiama abitare che si chiama casa e noi dobbiamo consentire a chi decide di stare nelle nostre città di studiare o chi si deve spostare di avere anche quella parte di edilizia residenziale pubblica io dico edilizia popolare sociale perché non mi vergogno non bisogna vergognarsi di dire quella parola bisogna far sì che all'interno delle pianificazioni urbanistiche ci sia una maggiore attenzione oggi è su tutti i riflettori il tema della casa della città di Milano ma anche dell'area metropolitana allora io confido che amministrazioni come quando prima diceva l'assessore uno quando decide di pianificare deve avere una visione davanti di almeno di 15 anni perché deve guardare le future generazioni forse anche di più io ho fatto l'amministratore in un piccolo comune e quando mi sedevo nel tavolo della giunta non potevo guardare la prossima settimana anzi io dico che una legislatura non è mai sufficiente per un amministratore devono esserci due legislature tre un po' troppo ma due devono esserci per far sì che il programma che si attivi si sviluppa ma non dimentichiamo il tema case perché abbiamo forze dell'ordine abbiamo operatori sanitari abbiamo insegnanti che oggi non vengono le nostre città perché sono troppo elevati i prezzi degli affitti e quindi sono costretti a fare decine e decine di chilometri dobbiamo dare una risposta a questo e non lo possiamo fare insieme se ci confrontiamo come questa mattina in questo incontro grazie e buon lavoro grazie Enrico grazie anche dell'ospicio e diciamo che adesso possiamo continuare con la dottoressa Melissa Oliviero la segretaria della Camera del Lavoro metropolitana di Milano CGL prego a lei la parola sì grazie 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 dell'invito naturalmente anche perché quando si parla di lavoro per noi è sempre un'occasione importante per ascoltare e anche per spiegare il nostro punto di vista ecco anche io come Enrico vorrei focalizzare l'interlocuzione ovviamente a tutti i presenti ma in particolar modo ai ragazzi presenti nella sala perché il tema mi pare che se noi vogliamo consegnare un futuro e noi dobbiamo consegnare un futuro alle giovani generazioni noi dobbiamo partire da voi ovviamente però non voglio andare per campi voglio proprio focalizzare sul territorio di Sesto perché Sesto lo dicevano molti interventi che mi hanno proceduto è interessata e sarà interessata da profonde trasformazioni in questo territorio sommessamente lo ricordo anche se è già stato detto abbondantemente viene fatto il più grande investimento di sanità pubblica credo il più grande della regione la città della ricerca della salute dove l'intervento pubblico fa da volano in questo territorio un terzo di questo territorio è occupato da aree che andranno in trasformazione in rigenerazione allora il tema qual è? io credo che potrebbe esserci l'occasione per insieme provare a disegnare una via di sviluppo di nuovo sviluppo di questo territorio ma io vorrei aggiungere un aggettivo una via alta allo sviluppo di questo territorio e perché faccio questa precisazione perché un modello alto di sviluppo del territorio passa necessariamente da quale modello di impresa ma soprattutto dalla creazione di lavoro di qualità perché io credo che oggi noi possiamo essere nella condizione di raccogliere e anche lanciare una sfida affinché questo territorio possa insieme dotarsi di un modello in grado di creare lavoro di qualità che cosa vuol dire? vuol dire sicuramente una serrata lotta al precariato perché non c'è lavoro di qualità se c'è precarietà nel lavoro e noi oggi precarietà nel lavoro la registriamo i dati seppure a livello nazionale ma comunque ci danno un segnale importante ci dicono che solo 16 nuovi avviati al lavoro hanno un contratto a tempo indeterminato e allora vuol dire che c'è un tema cioè al di là di questi 16 il restante che cosa succede? succede che a mio modo di vedere noi dobbiamo non solo lanciare messaggi alle nuove generazioni ma lavorare tutti insieme per creare loro un futuro che gli consegni un posto di lavoro che non sia precario quindi lavorare sull'applicazione dei giusti contratti nazionali lavorare su delle forme di assunzioni che non gli diano un messaggio di nessuna speranza per il futuro perché io credo che non ci sia niente di peggio che rassegnarsi quando si è giovani quando si è giovani bisogna avere il vento contro bisogna andare contro corrente e noi io credo che abbiamo l'obiettivo dobbiamo possiamo in questo territorio insieme porci l'obiettivo per creare un modello di sviluppo che parta uno da una battaglia alla precarietà due c'è il tema della formazione perché io ho ascoltato con con molta attenzione non si può fare formazione non si deve fare solo formazione all'interno della scuola ormai siamo in un mercato del lavoro siamo in un mondo del lavoro dove è necessario fare una formazione sempre sempre perché è così netta e in veloce trasformazione che dobbiamo avere tutti in particolar modo dei giovani ma un po' tutti delle competenze di base che ci permettano poi di reimpiegarci quindi un tema della formazione la formazione sicuramente dei giovani nel mondo del lavoro delle donne ma anche la formazione di tutti quei magari ultra cinquantenni che un posto di lavoro non ce l'hanno ma che potrebbero come dire essere reinvestiti all'interno del mercato del lavoro quindi un modello alto di sviluppo che parta battaglia la precarietà formazione sicurezza sul lavoro lo ricordava lo ricordava Enrico ma è lo ricordavano altri prima di me è una io credo che sia una battaglia di civiltà quella della sicurezza sul lavoro queste cose come si possono fare si possono fare attraverso tanti strumenti io ovviamente parlerò di quello del mio che è quello della contrattazione perché il sindacato rappresenta e contratta allora io credo che noi possiamo fare tutte queste cose insieme attraverso lo strumento della contrattazione in questo caso territoriale naturalmente con le istituzioni con le imprese con tutti gli enti di formazione con tutti coloro che sono poi interessati allo sviluppo del territorio non è una cosa nuova in questo territorio noi abbiamo già fatto negli anni addietro con l'amministrazione degli accordi importanti mi riferisco ad esempio l'accordo anticipatore diciamo così della città della ricerca della cittadella della salute e della ricerca a cui a nostro modo di avere bisogna dare seguito nel senso che questo è ecco quelle cose che dicevo prima possono trovare una loro attuazione nell'ambito di un tavolo che proprio accompagni la costruzione e l'avviamento della città della ricerca della salute così come abbiamo fatto degli accordi importanti e mi riferisco all'accordo sul welfare territoriale che abbiamo fatto qualche anno fa che francamente è un accordo unico nel suo genere ecco che mette adesso non mi dilungherò anche per ragioni di tempo ma è un accordo che mette nella disponibilità della contrattazione aziendale una serie di strumenti di welfare territoriale messi a disposizione dell'amministrazione allora io credo che oggi qual è la proposta è di riprendere un po' quella strada di contrattazione contrattiamo insieme oggi quali sono ad esempio le condizioni con le quali vengono costruite la città della ricerca della salute le nuove aree ex falc quali sono le condizioni di lavoro di chi andrà a costruirla ma io dico anche se vogliamo porci un tema di sfida alta anche le condizioni di chi ci lavorerà con quali salari con quali contratti nazionali applicati e anche parlare in quei contesti di come facciamo ad agevolare l'occupazione dei giovani l'occupazione delle donne perché ora ciascuno fa la sua parte però ci sono delle leve che si possono azionare perché una efficace inserimento o reinserimento delle donne nel mercato del lavoro sia se ci sono dei servizi pubblici che danno la possibilità alle donne di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro quindi una serie di leve noi le abbiamo a disposizione allora io credo che un po' la questione e vado a concludere sia un po' di provare insieme questa nell'ambito del tavolo che più riteremo porturo può essere quello della consulta delle imprese e del lavoro di creare un tavolo che crei delle opportunità per il territorio affinché tutti rispondiamo alla domanda di va bene abbiamo fatto queste cose su questo territorio cosa ci guadagna il territorio allora io credo che a questo punto noi quando avremo dato una risposta positiva a questo quesito potremmo pensare potremmo pensare di aver svolto efficacemente il nostro lavoro che è quello di creare un'occupazione di qualità ora io so che gli operatori sono privati ci sono anche operatori privati ma io credo che il governo del territorio debba questa debba essere l'occasione affinché il governo del territorio possa tradursi in lavoro di qualità cioè stabilire le regole un quadro di regole di come si viene assunti come si viene pagati perché una delle emergenze del nostro paese è quello dei salari ovviamente come si viene pagati e io credo che per fare questo noi possiamo noi dobbiamo io do la mia disponibilità ma credo di interpretare ovviamente riprendo anche le cose che diceva Enrico di riavviare da subito questi tavoli per quanto riguarda le nuove le aree ex falc e anche la costruzione della città della ricerca della salute quindi un confronto un po' su tutti i temi che sono tanti che interessano questa città PNRR città della ricerca della salute e ex aree falc coinvolgendo ovviamente anche le organizzazioni sindacali che da questo punto di vista abbiamo come dire anche con questa amministrazione fatto diversi accordi che io reputo interessanti che possono fungere da cornice grazie grazie dottoressa Oliviero adesso do la parola a dottor Carlo Gerla segretario CISL città metropolitana di Milano e provincia dopodiché poi sentirò un po' gli studenti magari le loro esperienze sicuramente hanno qualcosa da dire sia ai parlamentari anche se non ci saranno le risposte per dire subito sicuramente arriveranno presso anche i vostri istituti prego dottor Gerla grazie 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 a chi ha organizzato questo importante momento ho ascoltato fin dall'inizio i diversi relatori un grazie al al presidente chiaramente della della consulta quando si parla di futuro futuro per sesto è fuori dubbio che occorrono anche nuovi strumenti per gestire il nuovo gestire il cambiamento e noi ecco come CISL vogliamo esserci vogliamo esserci per per cambiare è fuori dubbio che bisogna aprire una nuova stagione una nuova stagione rispetto a lavoro impresa istituzioni quindi partire da da un confronto partire dalla partecipazione la concertazione e lasciarsi un po ecco alle spalle definitivamente del novecento e non è un passaggio di poco conto è culturale e questa mattina più volte ricordavate gli articoli della Costituzione ecco io ne indico un altro l'articolo 46 della Costituzione dove si parla di partecipazione e colgo l'occasione per ringraziare i parlamentari presenti questa mattina in questa aula che so che a livello nazionale in Parlamento stanno sostenendo la proposta di legge della CISL sulla partecipazione grazie partecipazione che significa garantire ai lavoratori il diritto a collaborare alla alla gestione delle aziende quando si dice ai fini dell'elevazione economica e sociale e del lavoro no? in armonia con le esigenze chiaramente della produzione e quindi per fare questo bisogna trovare noi ci siamo l'abbiamo sempre dimostrato trovare insieme obiettivi comuni condivisi si parlava questa mattina dell'importanza della formazione delle competenze formazione delle competenze è il vero articolo 18 perché parliamoci chiaro significa salvaguardare i posti di lavoro e cercare di crearne altri siamo in Lombardia nello specifico a Sesto San Giovanni non tutte le realtà territoriali sono uguali non possiamo indicare azioni politiche uguali per tutti i territori quindi significa in questa realtà lavorare tantissimo sulla sulla formazione e sulle competenze perché ci aiuta tantissimo ad affrontare il matching se vogliamo veramente parlare di futuro perché noi in queste realtà della Lombardia in modo particolare non abbiamo un problema di quantità occupazionale ringraziando Dio noi abbiamo un problema di qualità del lavoro del lavoro dignitoso e solo attraverso la scuola la scuola la rete tra l'università le imprese riusciamo a formare la persona ancora prima della lavoratrice del lavoratore la persona l'elevazione della persona nella nella società quindi esercitare la contrattazione territoriale individuare nuovi modelli anche di welfare perché questa attrattività anche del territorio incentivi anche mirati incentivi mirati non non la pioggia al sistema produttivo e perché noi concludo provare provare a lavorare per un accordo per un patto territoriale per il lavoro e lo sviluppo grazie grazie Carlo Gerla ecco con gli studenti vorrei parlare anche gli stage sono sicuramente importanti anche presso chiaramente i miei uffici arrivano ragazzi dove vogliono fare degli stage quindi curati devo dire da parte della scuola in modo diverso rispetto a già dici anni fa e quindi io sono sempre molto contento effettivamente di avere qualche giovane all'interno del mio ufficio di presentarli anche ad altri quindi lo stage è sicuramente un discorso interessante se poi viene fatto chiaramente all'estero sicuramente più è più interessante ancora quindi io chiedo a Simone Biondi di parlarci della sua esperienza di Erasmus quindi uno stage all'estero da Valencia da pochissimo da pochissimo chiaramente tempo quindi ti esorto tranquillo siamo in grande amicizia per cui hai un grande sostenitore non solo il presidente della consulta dell'impresa ma Sesto e tutte le persone che hanno partecipato effettivamente a questo evento prego prego Miondi grazie grazie mille come detto sono Simone sono al quarto anno dell'istituto professionale settore termoidraulico ho partecipato a vari stage qui in Italia e ho fatto un'esperienza di un mese in Erasmus a Siviglia di su cioè facevo il frigorista con manutenzione split o installazione di impianti di aerocondizionato la scuola mi ha dato questa possibilità con anche la partecipazione di Incoma che era l'azienda ospitante ho passato questo mese in un appartamento da solo con altri quattro ragazzi di di Saronno e è stata un'esperienza molto costruttiva soprattutto perché oltre che vivere da solo vivevi da solo con altre quattro persone quindi oltre che arrangiarti motivi per come fanno tutti tra virgolette gli adulti nella vita quotidiana dovevi anche convivere con altre persone un'altra difficoltà è stata la lingua solo che comunque grazie alla formazione prima anche andando all'estero comunque sai lavorare sul tuo lavoro quindi non hai problemi né sugli attrezzi né sul montaggio quindi è stato grazie a questo che ho avuto poche difficoltà soprattutto sul lavoro grazie grazie mille grazie di questa tua esperienza diciamo che la conoscenza tecnica ha superato un po' la lingua quindi questo è sicuramente importante quindi grazie anche alla formazione da parte dell'istituto salesiano ecco c'era il montale che voleva intervenire facendo qualche domanda oppure qualcun altro dei salesiani mi era segnato una domanda certo prego per noi studenti lasciare la nostra zona di comfort ovvero la scuola può essere complicato come come possono le aziende aiutarci nell'integrazione di questo nuovo mondo che per noi è il lavoro soprattutto anche in ambito finanziario o burocratico perché la scuola non ci non ci forma sul per esempio il contratto di lavoro abbiamo una formazione magari c'è nella nostra scuola c'è una formazione sul curriculum cioè fare un curriculum con le nostre esperienze però poi il contratto di lavoro vero e proprio non non abbiamo molto non sappiamo come grazie e devo dire una bella una bella domanda molto molto carica io qui ringrazio che il dottor Balabio è rimasto effettivamente perché proprio lui risorse risorse umane ci potrà dare una potrà dare una risposta a quello che sono gli studenti ma qui abbiamo anche parlamentari sindacati quindi insieme poi andremo e ci faremo i compiti a casa grazie prego su queste allora distinguiamolo immagino che appunto legati anche alla scuola ci siano allora per chi fa esperienze durante il percorso di lavoro penso in primis sulla brandistato c'è sicuramente tutta una parte poi di preparazione anche rispetto a quelle che sono il tema del contratto è sicuramente un elemento un elemento importante ecco questo vuol dire di conoscere quello che è i diritti la lettura della busta paga cosa significa entrare in un in un contesto un contesto di lavoro fa parte diciamo di quella di quella formazione anche di cittadinanza trasversale che è importante per ciascuno per ciascuno di noi come cittadino e come ovviamente come lavoratore noi ad esempio appunto su questo come come assoluto ci rendiamo disponibili facciamo anche dei momenti con con delle scuole rispetto a quella che è una formazione nel momento appunto della transizione all'interno del mercato del lavoro lo facciamo sia con scuole superiori sia anche con con le università ecco penso che siano dei dei momenti importanti non so come collocarli anche all'interno del programma didattico che è sempre molto tirato però ecco quando parliamo anche delle famose 33 ore di educazione civica penso che questa c'è un affondo su quello che è il lavoro il mercato del lavoro diritti insomma salute sicurezza insomma siano degli elementi assolutamente importanti perché poi usciti dalla scuola ciascuno di noi a suo modo è lavoratore o dipendente o autonomo o imprenditore ecco per cui ecco questo è una diciamo è un ambito importante da parte nostra immagino ovviamente a maggior ragione da parte anche delle organizzazioni sindacali c'è disponibilità a trovare dei momenti di collaborazione di supporto su queste attività ecco grazie dottor grazie dottor Ballabio diciamo che la consulta di imprese ha dato anche una soluzione quindi c'è un'opportunità attraverso chiaramente a Solombarda di poter o a Solombarda va a visitare i salesiani cosa già sicuramente fatto oppure i salesiani la stessa cosa vale per l'Istituto Montale e per gli altri istituti che qui a Sesto oggi è andato pochissimo riscontro senatore sul discorso degli studenti no solo solo anzitutto volevo fare i complimenti e ringraziare gli studenti per aver retto tutta questa mattinata avreste preferito essere in classe probabilmente ma vi è toccato no scherzo invece complimenti alla professoressa che vi ha accompagnato e a voi perché comunque questa è un'esperienza un'esperienza di vita non ti chiederò cosa hai fatto nel mese in cui hai vissuto da solo con i tuoi amici di Saronno in quell'appartamento tranquillo però sei tornato vivo questo è già un buon risultato è un'esperienza positiva no io volevo solo dire questo è vero che quello che hai detto è vero la domanda è vera cioè quando si esce dalla scuola ma anche dall'università si esce da quella che è la comfort zone non si sa come approcciare poi il mondo in generale in particolare il mondo del lavoro non si conoscono i diritti non si conoscono i doveri ci si trova un po' probabilmente allo sbando io credo che una cosa che si debba e si possa fare sia quello fortunatamente è stata reintrodotta è stato detto prima educazione civica a scuola ecco quella dovrebbe essere il momento in cui si forma concretamente il nuovo cittadino perché passate da una fase diciamo così in cui siete coccolati a casa e a scuola peraltro voi siete di una scuola di cinisello quindi siamo anche con cittadini di fatto e si arriva poi nel mondo vero ecco metà e metà sì sì l'ho messo in evidenza così la prossima volta parteciperò anche le scuole di sesto tale che sesto c'è anche mio figlio dov'è il figlio del presidente ah eccolo là sì perfetto l'ho visto dicevo quindi che probabilmente la scuola dovrebbe impegnarsi attraverso l'educazione civica forse questo è un altro compito che potrebbe gravare sugli amministratori perché sul comune perché forse è il comune che dovrebbe in una determinata fase dare degli attraverso uno sportello attraverso un momento di assistenza aiuto a chi si trova per la prima volta a dover combattere nel mondo reale comunque complimenti ancora per la vostra pazienza la vostra partecipazione vi ringrazio grazie a te una battuta a Confcommercio dottor Gironi prego sì molto velocemente allora per quanto riguarda il tuo quesito il mondo dell'impresa del commercio a cui fa riferimento la tua tipologia di impresa perché di fatto le imprese che installano condizionatori piuttosto che fanno questo tipo di manutenzione sono riconducibili al mondo del commercio hanno come dicevo prima la possibilità di avere uno sportello dedicato per capire qualora si dovesse decidere di fare impresa se ci sono le condizioni per poterlo fare condizioni burocratiche in primis ma anche le condizioni economiche per il sostentamento dell'impresa che si pensa di mettere a terra può essere magari un progetto che tu potrai mettere in campo tra qualche anno ma tra qualche anno il commercio cercherà qualora tu decidessi di doverlo fare o voi doveste decidere di doverlo fare darti supporto per capire se è una idea realizzabile un sogno realizzabile come ti auguro grazie va bene allora intanto io se non ci sono chiaramente altri altri interventi ringrazierei ah beh il consigliere il consigliere Sergio Valsecchi il consigliere comunale di Sesto in rappresentanza di tutti gli altri consiglieri grazie prego non ti vuole far parlare va bene urla ah perfetto dipendenti in azienda grazie che lavora nei servizi estetici alla persona volevo portare un'esperienza perché sono già al mio terzo anno in cui accolgo una ragazza ragazze che vengono a fare l'esperienza Erasmus qui presso il mio centro sono collegato con una scuola spagnola che mi manda qui delle ragazze che vengono alloggiate a Milano vengono alloggiate a Milano e e vengono a prestare il servizio lavorativo per e fare esperienza internazionale sia per il discorso lingua ma anche soprattutto per le tecniche lavorative da me credo molto nella formazione perché avendo sette dipendenti in questo momento ho nove stagiste ormai le scuole di estetica di tutto il circondario sanno che sono un punto di riferimento per accoglimento anche di persone che magari stanno facendo uno stage in una situazione dove poi non si trovano bene e mi offro io per fargli concludere il ciclo formativo è un bel investimento un investimento di tempo e anche economico perché una ragazza che viene e fa formazione non può lavorare sulle clienti si deve formare e questo costa quindi un investimento di tempo dedicato loro e di risorse che bisogna dotare a loro se posso dire ho creduto molto in questo percorso infatti dopo lo stage scolastico che a volte si interrompe perché assumo come apprendiste e quindi collaboro con la scuola per gli ultimi due anni in un contratto di formazione a lavoro però con assunzione a contratto direttamente presso il mio centro e poi proseguo con un apprendistato che dura tre anni in questo momento che sfocia poi in un'assunzione a tempo indeterminato il mondo in cui lavoro io è molto volubile quindi le ragazze vanno vengono eccetera quindi in questo momento per sempre sono impegnato nella ricerca di dipendenti e non riesco a trovare nessuno nonostante curriculum nonostante eccetera quindi non so se è il discorso retributivo che può essere un limite perché la vita qui da noi è probabilmente costosa quindi stipendi anche da contratto regolari così per qualcuno non sono allettanti in questo momento quindi l'unica possibilità è visto che non si possono dare delle retribuzioni altissime per incentivare le persone perché c'è un limite per cui da esserci la sostenibilità da parte dell'azienda mensile di poter sostenere un stipendio forse è un discorso di intervenire su un cuneo fiscale e quindi rendere maggiormente ridotte le spese per un datore di lavoro e rendere maggiore il netto per il dipendente potrebbe essere una strada secondo me da percorrere per un maggior inserimento almeno nel mio settore grazie ora prendo l'occasione per ringraziare i consiglieri comunali intervenuti per tutti i partecipanti ringrazio lo staff del sindaco Paolo Malcangio Carmen Fasano e Luna Brudaglio che hanno insieme a me hanno realizzato ho avuto la possibilità di realizzare chiaramente questo evento per voi un grazie a tutti e un grazie chiaramente a tutti parlamentari senatore assessore e grazie ancora ci rivediamo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti